eccoci qua buonasera a tutti i ragazzi bentornati su interportation come sempre prima di partire con la live ricordo a tutti di iscriversi al canale attivare la campanella seguirci su tutti i nostri social che trovate i link giù in descrizione credo spero perché il buon marcus ha messo sicuramente inoltre se vi va e sottolineo solo se vi va abbonatevi al canale o al canile e poi se volete sempre offriteci un caffè ma soprattutto sempre se volete scrivete una mail a simone vide chioccia like cloud punto com che il buon simon che oggi abbiamo l'onore di avere in live ragazzi cioè cosa che non accadeva dal novanta giorno non accadeva dal novanta tre quindi avere in live il buon wild comunque quando si ricorda di esistere vi insedisce nel gruppo whatsapp inoltre vi ricordo che vi vige la regola dell'anarchia for passion e per sostenere il progetto del docs scrivete una mail a simone vide chioccia il love povia punto it e attivo anche il portale www.ilovepovia.it dove ci sono dei contenuti speciali del docs per il suo progetto di fare il fan club online del mitico povia aspetta diciamo diciamo l'ultima cosa luigi che con 199 euro e virgola 99 centesimi c'è un materasso della emicless detto questo ogni riferimento è puramente casuale viva il pasquo pollice condividete la live come se non ci fosse un domani pasquino ti vengo a prendere il pasquino ti vengo a prendere fai a partire sta cazzo di sigla che sennò dico solo puttanate sigla a partire da st那个 vengi adorano e sennò dico solo puttanate sigla a partire addio mash andомunya più collegati si soni un Aqui per sostenere i lacrosi mon sac jari vengono Affiliate Grazie a tutti. 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 Vi chiedo se potete seguitela per un semplice motivo perché vi spiega in maniera diciamo molto chiara cosa sta intorno al mondo dell'Inter in questo momento ma soprattutto quali sono le informazioni attuali di cui noi vogliamo una risposta. Quindi sinceramente affidiamoci un po' i professionisti in questo momento perché siamo sotto processo da un continuativo di informazioni che arrivano da tutte le parti. Ci bersagliano i giornali anche determinate cose poi se non parlano i giornali ci parliamo noi che sinceramente non ne sappiamo quasi niente ma vogliamo far notizia e su quello che sono diciamo l'ambiente interne le informazioni attuali secondo me vi da tante risposte. Questo è quanto. non ci vogliono dire nulla quindi non ci vogliono dire nulla quindi non sappiamo come stanno le cose direttamente quindi ci attendiamo e analizziamo la cosa nel migliore dei modi come direbbe il mister. Sì 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 ma infatti noi atteniamo e attendiamo certe informazioni questo è giusto quello che stai dicendo ma la cosa fondamentale è una che anche lui se sentite l'intervista breve anche lui spiega sono uno spettatore anch'io tra virgolette sotto certi punti di vista però come giornalista vi do la mia parafrasi su quello che è la situazione attuale dell'Inter e ci sta ci sta. Anche perché fondamentalmente quante cose vediamo su internet che sono completamente asettiche di informazioni che non hanno veramente senso tantissime ogni giorno. Basta vedere oggi basta vedere oggi la cosa di panorama quella di panorama è scandalosa quanto mi dicono hanno fatto un titolone clickbait poi chi è riuscito ad abbonare ma gli agenti sono abbonati per leggere l'articolo c'è scritto un cazzo nell'articolo se non due righe in cui dice gli arabi vorrebbero comprare l'Inter starebbero per cioè ma perché devi essere così perché devi fare questo titolone clickbait fai spendere dei soldi alla gente che va a acquistare il giornale perché in questo momento stai sfruttando l'onda che si è generata sui social della gente della gente che vuole sapere sempre di più sulla situazione PIF Io credo Gigi se mi permetti cioè non è il fatto di sapere o non sapere o avere contatti a prescindere dal fatto che comunque i contatti veri non ti dicono certe cose. E' proprio dare un'informazione genuina sul fatto che noi stiamo seguendo quello che sta succedendo quello che dicono i canali a prescindere noi saremmo molto contenti se succedesse quello che tutti prospettano che dicono che dicono gli esonerati che dicono se dice il VAT che dicono tutti quanti perché sinceramente chi è che non vorrebbe tutto quello che si può pensare in questo momento? Cioè sono un folle sono un folle non vorrebbe vedere l'Inter in questa situazione risplendere su se stessi Eugenio No ma vabbè lascia di essere Eugenio Cioè chi non vorrebbe questo? Tutti lo vogliono Il discorso è quello che dice Eugenio e da un punto di vista etico e morale non lo vorresti ma da un punto di vista economico chi è che non lo vorrebbe? Tutti 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 e a prescindere da ciò visto che comunque siamo stiamo seguendo quello che stanno dicendo tutti come tutti stanno facendo come anche gli utenti come voi come tutti quelli che seguono che ci seguono che seguono gli altri però comunque è meglio sentire tutte le campane perché perché dal momento in cui poi dopo apriamo un dibattito non succede nulla uno non deve rimanere con il culo scoperto dire no tu del canale X hai detto una stronzata tu del canale Y se non aveva ragione no perché nessuno ha ragione qui dentro perché nessuno sa niente più di quel che deve sapere è bello comunque diciamo avere la possibilità di sentire tutte le campane e poi farsi una ragione di ciò ma non prendiamo sul serio tutto quello che viene detto perché se veramente YouTube è l'amico delle società allora abbiamo capito un cazzo di economia certo ma questo soprattutto quello che mi preoccupa Simo è il fenomeno che sto riscontrando nell'utenza cioè prendono le notizie e si incazzano se qualcuno dice una cosa differente cioè io parlo dell'utente non dello youtuber perché lo youtuber alla fine fa il suo show diciamo chiamo show però già dà le sue informazioni diciamo però il problema è che l'utente le fa sue queste informazioni e se qualche canale si alza e dice una cosa differente comincia tu non capisci un cazzo perché io so ma tu sai cosa chi ti ha detto che cosa chi te l'ha detto è arrivato Zang ti ha telefonato e ti ha detto sto vendendo a pif cioè io posso capire che qualcuno abbia delle informazioni ci può stare non è che è una cosa che non ci può stare a prescindere però però attenzione io lo dico per voi cioè così vivete male nella vita facciamo un esempio Gigi allora a Matteo Silvio la sta vendendo male perché ti faccio un esempio avete letto cosa ha scritto panorama no non stiamo dicendo allora però posso intervenire io su questo io uno come Matteo che ti dice una cosa del genere gli direi vai a leggere l'articolo perché da quel poco che io ho letto in giro e che ho sentito di chi ha letto l'articolo di panorama non sarei tanto contenta del motivo per cui i pif ci vorrebbe comprare perché sarebbe un gioco a chi è il più forte a chi ce l'ha più lungo con i catarioti questo non è amore per l'inter a parte questo che non dice questo nell'articolo però c'è un titolo che dice 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 l'articolo parla della la sfida del Qatar sul titolore ma sull'articolo parla di tutt'altro dedica due righe due righe all'affare con l'inter no e dice pif starebbe per comprare cioè sarebbe per comprare l'italiano in italiano quindi imparate l'italiano di tutto il contrario lo sta dicendo uno che ha fatto studi economici quindi con l'italiano non ha fatto studi letterali però qualcosa di italiano la sa starebbe per comprare non vuol dire che l'ha comprata ho visto trattative saltare per molto meno per molti meno condizionali mettiamola in questa maniera ne Antonio, ne Matteo, ne tutti non stiamo discutendo del fatto di quello che scrivete ma assolutamente gli zang vogliono bene all'inter o meno cioè non vuol dire nulla ragazzo mio l'anno scorso quando hai festeggiato lo scudetto Andavi era un pre coglione a zang se aveva fatto bene o meno poi ti possono stare sui coglioni i cinesi però molte volte anche queste cose qua vengono, parlo di Youtube vengono date con violenza perché si va a parlare male ora in questo momento ce ne frega poco di chi sia la società perché la società comunque non è presente e lo sappiamo perché ha delle regole ben precise e ha delle identità precise poi che noi le condividiamo meno poco cambia anche io sono contro a questa assenza ma tutti credo nel senso non pensiamo che però con Arabi avremmo un prestito brava anche perché questi sauditi non è che sono così semplici ragazzi questi non si faranno vedere peggio di questi qua l'unica differenza è che non possono ma l'hanno anche spiegato hanno anche detto perché non sarebbe congruo investire in Italia l'hanno spiegato l'hanno specificato anche sui giornali oggi è uscito il pandemonio su tutte quelle che sono le testate giornalistiche non è un caso ragazzi non è che si esce e si dice non vengo perché invece il contrario cioè non è che sempre un marotta bis quello che viene detto sui giornali probabilmente è perché molte voci vengono date come ricordatevi che su YouTube a prescindere se si fanno molti canali 8 30.000 40.000 50.000 200.000 alla fine esce qualche milione di spettatori e non è che la società le società non guardano anche queste cose le guardano perché il il malloppo di tutti gli YouTuber fa molto di più di quello che fa il canale dell'Inter in termini di iscritti di spettatori eccetera quindi probabilmente ogni tanto qualcuno dice aspetta perché c'è un ufficio stampa controlliamo cosa viene detto in giro e diamo le nostre specifiche tecnico i dettagli ai giornalisti che riportano ma attenzione non è che sono sempre tutti spettatori probabilmente se succedono queste cose vengono specificate visto che finora PIF è stata una cosa del web perché finché se non mi sbaglio Matteo Silvio è stato chiamato da da Ben Salman come si chiama dal principe vedi gli ha detto gli ha detto che sarà più presente e loro le fanno le cose vabbè ma guarda presente presente o non presente presente blind ma lo sappiamo benissimo tutti queste cose accadono per un motivo come quando è uscito dai giochi il Ganga Style e Ganga Style è passato ai cinesi cioè è ovvio che l'Inter così non andrà avanti nei prossimi anni e dovrà cambiare qualche cosa certo ma non possiamo in 5 minuti sapere tutte le cose che non esistono perché fino a che il YouTube barra queste situazioni qua non esistevano nel web video diciamo conference cioè queste cose non accadevano accadono adesso perché ci sono tante chiacchierate da poter fare ma è boh cioè nel senso è come chi vi vende un cellulare a 200 euro e vi dice di tenerlo lì che l'avete visto su Instagram e ripassa dopo 3 giorni e gli dai 50 euro per il beneficio del dubbio cioè dai scusami un attimo Francesco Puccio questa Amanda questa Amanda aveva detto la stessa cosa della Premier qualche mese prima dell'ufficialità dell'acquisto del mio caso aveva detto cose differenti però ha detto cose differenti cioè qui è stata molto pesante nei confronti del campionato italiano quindi della Lega italiana tu ti sei messa contro la Lega italiana in questo momento e vivi in Italia però fammi capire Luigi scusa questa Amanda fino a ieri fino a ieri parlava per il suo fondo e non la associavano a PIF adesso visto che con Newcastle ha detto le stesse cose della Premier adesso è associata a PIF ragazzi fate pace col cervello però no ma non è solo questo è buonissimo non è solo questo e per esempio Matteo dice una cosa sensata senza senso ogni anno con Zang perdi un campione è vero? l'anno scorso hai perso due campioni perché avevano cioè una prima cioè fino all'anno prima se tutte le volte avevo vincere il campionato dimmi dove devo firmare no no fino all'anno prima te li compravano i campioni perché te li hanno comprati tutti appunto per vendeli prima le devi comprare prima di tutto ripeto io non sono d'accordo con la politica di Zang non sono mai stato d'accordo mai però a prescindere da questo dopo un anno che ne perdi due tra virgolette ne hai persi diciamo che ne abbiamo persi due e che abbiamo Danfris che non ha dimostrato quello che doveva dimostrare e abbiamo preso due persone due diciamo giocatori che sinceramente Correa lo sapevamo cos'era e Gecko mi sembra che mi sembra che stia facendo veramente anche troppo rispetto a quello che doveva sostituire che poi non è sostituto originario però mi sembra che stia facendo molto bene quindi non so perché dici sta cosa però cosa volevamo aspettarci? Cosa? Di andare in fallimento perché non vendi nessuno? Cioè no anche no però è no allora io sono curioso a questo punto Matteo no? Tu dici i cinesi volevano fare una cosa ma non ci sono riusciti stop no togli lo stop dimmi che cosa volevano fare i cinesi secondo te oppure guarda facciamo una bella cosa che poi mettiamo su l'intervista sì perché c'è un'intervista interessante ragazzi è veramente interessante adesso vi metto il link e quindi parliamo un pochino insieme e venite su ditemi la vostra quindi anche tu Francesco anche no Paul Fox tu sei gobbo di merda non entri Roberto Spatola che ti hai scritto qualche cosa voglio sì aveva scritto stasera preferisce questo canale all'altro perché il suo non è in diretta ah ok vieni su vieni su tu Francesco Roberto Spatola volete salire Cristian non c'è bisogno che te lo dico te lo dico ogni sera quindi ciao Paul l'ho salutato prima Paul io adesso è l'unico gobbo che mi sta simpatico oltre a mia madre per una questione di parentela diciamo ciao 972 grammi grandissimo no ma io io direi Gigi che secondo me vabbè chi vuole salire salga ma io facciamola quella cosa faccio partire intervista sì magari la fai a pezzi magari la fai ascoltare no 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 facciamo una filata perché tanto sono sono veramente una mezzonetta però ascoltatela perché dice delle cose molto interessanti io l'unica cosa che vi pregrei voi che state in live di mutarci di mutarvi vabbè sì mutatevi così io adesso metto su l'intervista mi potete mutare voi non riesco io sì ci penso io ok chi ha possibilità metta sotto l'intervista cioè in in dettaglio siamo già pronti siamo già pronti con l'intervista ok perfetto sono già pronto la regia la regia sono tutti mutati la blind la muto io eccola qua dox ti muti tu mi muto pure io faccio ciao grazie di essere intervenuto a finita e per special come va l'apro bene grazie ciao a voi bentrovati a tutti ciao ragazzi ciao bene bene allora io ho un paio di domande da farti grazie di questi 15 minuti che ci dai a disposizione la prima la cosa che ci interessa di più è cosa credi del cosa pensi più oltre di Inzaghi come allenatore ma io allora devo essere sincero io devo dire che adesso Simone Inzaghi non ha mai avuto una come posso dire non dico una prima incognitata perché non è vero a me piace trovo che sia un ottimo allenatore non ho mai avuto la certezza non ce l'ho nemmeno adesso della verità anche se mi sembra che sia lavorando piuttosto bene e quindi non posso dire assolutamente nulla però la premessa è che io per poter parlare di un allenatore naturalmente devo anche capire che cosa ha fatto prima che tipo di personaggio sia quale sia la bontà del suo lavoro le sue idee la sua comunicazione di Simone Inzaghi ho sempre pensato almeno prima che arrivassero all'Inter più o meno le stesse cose che pensavo di Pioli che pensavo per certi versi non di Spalletti perché per Spalletti ha una personalità più spiccata gli allenatori bravi capaci ma che nella storia dell'Inter mi spaventavano sempre perché avevano sempre dimostrato di essere ottimi allenatori tanto più che Pioli lo ha dimostrato di essere un ottimo allenatore al netto del fatto che è stato all'Inter praticamente poco tempo un anno e non ha avuto la possibilità di fare quello che poteva fare che sta facendo a Milan e che tra l'altro è un eccellente lavoro quindi io verso Pioli nutrivo grande stima e simpatia ma anche di lui ero convinto esattamente come per Simone Inzaghi che l'ambiente di Milano in qualche modo lo masticasse ora Simone Inzaghi secondo me ha avuto la fortuna di arrivare in un Inter diverso in un contesto storico differente perché arriva in un'epoca in cui non c'è più bisogno almeno temporaneamente di rock star che vendono sulla panchina dell'Azzurra e che si mettono a fare Mourinho Herrera Trapattoni Mancini e Mourinho e Bersellini è un unicum nella storia del calcio dell'Inter negli ultimi 60 anni Bersellini scusate se sto facendo questa lunga divagazione ma ti fa un po' a capire Bersellini è stato l'unico caso nella storia dell'Inter degli ultimi 60 anni vuol dire dal 1955 quindi anche di più che si è arrivato e abbia fatto con l'Inter un progetto cioè la storia dell'Inter è fatta di vittorie con allenatori che arrivano si siedono sulla panchina dell'Inter chi per tanti anni Herrera chi per un periodo discreto Trapattoni chi per un periodo limitatissimo Mourinho e Conte chi per un periodo insufficiente perché per varie motivazioni non è stato non si è creduto in lui a sufficienza Roberto Mancini mi dice soprattutto la seconda volta e quindi in qualche modo questo ha portato all'Inter la dimensione di una squadra che è un po' anomala è un'anomalia di sistema perché di tutti i grandi club europei ha sempre bisogno di qualcuno che la trascini però siamo nell'epoca di Marotta e Marotta è se vogliamo uno che non è soltanto un bravo dirigente che ha un occhio per la politica e l'altro per la qualità che può avere con i suoi collaboratori per poter prendere giocatori sostenibili dal punto di vista di costo ma è anche uno che esporta un modello culturale suo personale che però la Juventus ha funzionato cioè quello della società del club che è esattamente quello che stavo arrivato io pur non amando tutto per tutto di Marotta però ho sempre riconosciuto in lui la capacità di esportare un modello culturale che è quello della società che vince non dell'allenatore che vince non del giocatore che trascina la squadra io non ne posso più dell'Inter di Conte dell'Inter di Lukaku dell'Inter di chi volete di Matteus o di quello che volete o di Ronaldo l'Inter ed è quello che il modello qui io aspiro ma sembra un'utopia dovrebbe essere forte più del attore di riferimento che arriva più del dirigente di turno che si siede in poltrona più del presidente periodicamente ma certo se ci fosse un presidente perché oggi l'Inter ha un presidente assente e quindi l'Inter che in tutti questi anni è sempre di pesa la situazione inais quindi Inzaghi io l'ho giudicato in base a questo parametro non in base alla sua qualità cioè se io dico Inzaghi è un incapace dico una sciocchezza se dico Inzaghi è un fenomeno che è un trascinatore dico un'altra sciocchezza Inzaghi è un uomo che ha delle idee calcistiche che io trovo assolutamente interessanti e pratica un calcio che si sembra anche in crescita migliore di volte di anno in anno ma ha allenato soltanto la Lazio non ha fatto altro ha vissuto e cresciuto soltanto unicamente nella Lazio in un contesto comunque anomalo come quello del ombrello lotito che però non è soltanto un ombrello è anche un tetto piuttosto fortidioso e quando ti trovi con un allenatore che non ha mai avuto altre esperienze è normale avere dei dubbi ma non sull'uomo e non sulla sua qualità che potenzialmente mi sembra notevole io mi lascio soltanto augurarmi che lui cresca sempre di più mi sembra che anche lui stia imparando alcune aspetti di Milano e dell'Inter stessa che comunque è una società non dimentico mai naif e per chiudere il discorso di Inzaghi direi che stiamo parlando di una persona che Marotta ha voluto e che voleva anche la Juventus non a caso perché è un allenatore che a differenza dei Conte dei Mourinho di tanti altri allenatori non va in sala stampa a fare fuoco ai fiamme non viene lì ad accusare la dirigente è un uomo organico al club e come tale inevitabilmente è una persona che sicuramente può credere non solo nel lavoro ma renderlo più fluido l'Inter aveva bisogno di fluidità e non di scosse non di terremoti come quelli che offriva Conte e per giunta anche di tradimenti come quello che lui ha fatto alla fine dello scorso anno sì dopo tutto quello che è successo in maniera notevole diciamo che ci doveva essere qualcosa di differente lui lo sta dimostrando a prescindere dal fatto con le sue limitazioni con le sue capacità insomma che comunque sono notevoli a prescindere dal fatto che sia un uomo completamente differente da quello di Conte no? è chiaro tutto il tuo discorso è molto molto dettagliato vai Luigi ci vorrei chiedere ancora come vedi l'Inter di quest'anno dal punto di vista del gioco io personalmente vedo un gioco migliore che si può fare quello dell'anno scorso quindi come lo vedo? allora il gioco migliore io credo che il gioco migliore esista errativamente esiste il gioco organizzato dopodiché esiste il gioco spettacolare ma il gioco migliore in senso assoluto si crede soltanto se viene applicato con quello che per tanti anni e che per giunta è stato anche applicato da tanti altri allenatori cioè il guardiolismo che tra l'altro ha annoiato con il tiki-taka che poi si è evoluto in qualcosa di un gioco un po' più verticale e con magari lo stesso Luis Enrique che attualmente nella Spagna sta facendo un gioco scintillante rinunciando a giocatori di livello per poter puntare su giovani che abbiano delle qualità notevolissime le balistiche nonostante non siano dei fari di Barcellona Real Madrid ha rinunciato praticamente tutto il blocco del Real Madrid tanto per intenderci e ha quello del Barcellona che pure sta passando un momentaccio terribile perché ha dimostrato che si può vincere con un gruppo di giocatori che fondamentalmente era quello che avrebbe voluto fare Sacchi che non ha avuto il coraggio di fare fino in fondo in nazionale perché comunque ha fatto una via di mezzo ha portato in nazionale un baggio senza volerlo utilizzare perché non sapeva cosa farsene salvo può essere salvato da lui e di Novaggio e tutti gli altri invece lui è stato molto più netto e quindi quello è un calcio divertente spettacolare ma è un calcio comunque estremistico e questo vale anche per Mancini che è riuscito a conoscere le due cose Mancini non avendo dei fenomeni nazionali salvo un paio di ruoli che sono ottimamente coperti fa un calcio propositivo ok cosa vuol dire che calcio spettacolare non è la stessa cosa di bel calcio è un calcio o quantomeno di un calcio migliore perché il calcio migliore è quello che vince il calcio migliore e poi se hai la squadra per poter vincere evidentemente io visto delle squadre io ricorderò l'Italia di Vicini che vinceva le sue partite poi come ha perso quella con l'Argentina per giunta ai calci di rigore quindi non l'ha persa mai nonostante avesse comunque avuto questa sfortuna Vicini sono dimenticatori eppure prima di Mancini è stato l'allenatore che ha fatto meglio in assoluto questo è per dire che cosa che il gioco di l'Inter di quest'anno è più divertente forse ma in realtà è vero in parte nel senso che è una versione di veduta corretta del calcio di Conte quindi giustamente ognuno ha le sue idee ma mi pare di poter dire che se non hai più Lukaku non hai più Hakimi non hai più Ericsson ti devi per forza sottoporre a dei cambiamenti io so bene come ha reagito Inzaghi questa estate quando gli è stato comunicato che Lukaku andava via fuori di matto chiaramente ci è rimasto malissimo per non dire di peggio insomma era incassatissimo e dopo di che gli è arrivato Dzeko sono arrivati agli altri ma se tutti arrivano di giocatori buoni tu devi accrocchiarli in qualche modo devi cambiare il calcio il tuo gioco in base al tipo di caratteristiche allora oggi l'Inter gioca in ampiezza fa un gioco collettivo molto più di quanto non l'avesse mai fatto cioè gioca un calcio che per 70 minuti specialmente con le grandi squadre offre una fluidità del gioco della manovra perché coinvolgono tutti l'Inter vince spesso quando dalla retroguardia bastoni scrini non De Vrij perché De Vrij rimane sempre ancorato comunque come l'ultimo uomo quando fa i calci in calci d'angolo e questa Inter che collabora con tutti gli undici giocatori non è più appoggiata al lancio lungo per Lukaku che fa salire la squadra e poi arriva che ne so Lautaro che si appoggia è una squadra che è più imprevedibile che segna tantissimo esattamente come lo scorso anno 30 gol con Conte 29 con quella di Inzaghi ed è una formazione che in modo di vedere ha delle attitudini per poter giocare solo in questo modo al momento perché paradossalmente questo gioco che sembra più bello è anche il limite dell'Inter perché non può giocare diversamente per essere a questo livello tanto più che avevo detto prima e lo ripeto in questi periodi in questi giorni l'Inter gioca per 70 minuti coinvolgendo tutti e quindi sacrificando tutti sono tutti distrutti ma ci c'è sono stanchissimi Giacomo è uscito per volare muscolari Marello è uscito per volare muscolari Bastoni è uscito per volare muscolari Lautaro ha avuto una stanchezza padese in tutti qua stiamo parlando di una squadra spremutissima quindi vuol dire che evidentemente questa corsa continua l'Inter corre paradossalmente meno di altre squadre ma copre gli spazi molto bene è un gioco molto intenso quello che fa l'Inter e infatti negli ultimi 15-20 minuti con i grandi diciamo i big match l'Inter crolla regolarmente abbiamo visto con l'Atalanta con la Lazio con la Juventus con il Milan tutte queste occasioni con il Real Madrid in tutte queste occasioni l'Inter è stata praticamente best fata nel finale aveva già fatto meglio avrebbe meritato la vittoria e invece non ha mai vinto qualcosa vorrà pur dire perché dal punto di vista non solo statistico ma dell'andamento della partita rivela una squadra che gioca sicuramente bene gioca molto bene gioca meglio di altre squadre ma che ha meno punti di quelli che dovrebbe teoricamente avere se il calcio si andasse ai punti per il semplice fatto che per quanto spettacolare possa essere questo calcio ti sottopone a tante occasioni che ti costruisci a tanti gol che riesci a fare ma non hai la necessaria lucidità e questo è il problema che temo l'Inter non potrà risolvere quest'anno con il semplice fatto che non ha un tote io quest'anno lo dico sinceramente ho fatto il tifo perché arrivasse Zapata non lo santo fosse ridicolo pagare 40 milioni un giocatore di 30 anni in liste proprio però Zapata ti permetteva o ti avrebbe permesso di fare un gioco anche più efficace con Correa no Correa continuerà a fare magari due gol in una partita o tre e poi magari zero per altri tre o quattro e non è un giocatore che si fa coinvolgere dal gioco e lo abbiamo visto tutti spero che abbia anche lui una inversione magari si faccia coinvolgere perché le qualità tecniche ce le ha però non è quel tipo di giocatore di cui bisogna l'Inter avrebbe bisogno di un giocatore che non ha che sia robusto avrebbe bisogno paradossalmente più di un Caicedo avrebbe bisogno di un Zapata avrebbe bisogno che so di un Simi per farvi un esempio sto dicendo il modello di giocatore mi piaceva tantissimo il giocatore della Svezia che gioca in Spagna adesso mi viene più in mente perché è un classico quando parli non ti vengono in mente tutte le cose però diciamo che ci sono alcuni giocatori che avrebbero quel tipo di struttura io mi auguro tanto che ecco ieri sera per esempio l'Inter al centro campo spero che punti davvero a Zaccaria al centro campo perché al centro campo manca anche lì un giocatore che abbia quel tipo di struttura l'interno dei forti ma non dei corazzieri gli manca un corazziero in avanti e uno al centro campo esatto bravo vai Gigi esatto esatto un'altra domanda che ti voglio fare sai tutti i rumori l'argomento del momento i rumori sulla probabile attivizione di PIF cioè dell'Inter da parte del fondo PIF tu cosa ne pensi cosa fai di questa situazione e secondo te è un bene o un male che un fondo come PIF possa acquisire la vita io posso pensare che PIF sia un bene nel senso che PIF mi fa orrore il fondo PIF cioè Public Investment Fund è un fondo sovrano dell'Arabia Saudita ed è fondo stracchiacchierato responsabile attraverso questo personaggio fantomatico che è quello che poi è stato al centro di situazioni che inevitabilmente sono state molto chiacchierate cioè Bin Salman e il principe Mohammed Bin Salman è stato al centro di vicende quanto meno scalrose non purtroppo dal punto di vista sessuale ma da un punto della giustizia e siccome stiamo parlando di un mondo che a me non piace che ha visto peraltro il coinvolgimento di un uomo come Khashoggi che è stato ucciso barbaramente con il coinvolgimento anche di persone vicine a a quello che è questo mondo è chiaro che io diciamo che ci sono state delle denunce che poi sono state purtroppo sono finite dove sono finite ma l'omicidio Khashoggi diciamo che nasconde delle vicende che coinvolgono direttamente il principe ereditario e siccome è stato presentato anche a una corte federale un esposto che riguarda la persecuzione dei giornalisti in radio saudita da parte proprio di questo tipo di persone e quindi di Mohamed Bin Salman in tutto con delle NG che hanno anche denunciato la sua responsabilità nell'assassinio dello stesso Khashoggi come faccio ad essere felice mi turno il naso mi papo la bocca chiudo gli occhi e mi mi papo anche le orecchie già che ci sono però non è il massimo avere dal punto di vista etico una presidenza così è vero che il calcio è cambiato il mondo è cambiato il più pulito c'è la rogna però è chiaro che non sarei felice dopodiché è chiaro che non va bene nemmeno dal punto di vista sportivo quindi egoisticamente essere in mano un presidente assente che per carità molti dicono ah noi è in radio radio ma anche i nostri lettori dell'interista punto it tutti i lettori di entrambi le realtà ci dicono però alcuni c'è una divisione in questo come c'è nelle chat come c'è sui social cioè ah bisogna essere riconoscenti verso Zang perché hanno fatto investimenti come nessun altro bla 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 e si dice ma io non è che devo essere riconoscente perché se un signore che arriva dalla Cina sia così ingenui da pensare che rilega un club e ci metta 700 milioni perché va a boratale evidentemente c'è una visione della vita un tantino per non dire per loro in genua questi signori hanno fatto un investimento sperando di poter avere dei profitti dopodiché se il loro governo con il quale loro sono legati mani e piedi cambia completamente l'orientamento politico di investimenti è evidente che il rispetto a moltissime persone che hanno avuto i suoi bei problemi che tanto aveva da prima che acquistasse l'Inter e non si capisce come questa cosa non sia venuta fuori o forse si capisce perché dalla Cina vengono fuori soltanto comunicati stampa o comunicati statali il signor Xi Jinping è il presidente della Cina ormai rieletto e che per giunta è una sorta di tiranno posto che alla volta i tiranni non avevano l'accezione negativa che hanno oggi il tiranno era semplicemente un uomo deputato da centrale su di sé il potere e che praticamente durava praticamente tre o quattro anni il tempo che doveva durare e poi veniva messo un altro tiranno questo per dire che tipo di accezione aveva e come si è sbagliata quella che viene data oggi ci ho detto è evidente che oggi Xi Jinping fa il bello in piccola parte il scattivo in grande parte tempo e purtroppo Suning deve pensare prima di tutto a sopravvivere e quindi credo che PIF in questo periodo sia semplicemente un fondo che si è guardato intorno mi sarebbe sembrato stranissimo che potesse arrivare in Italia a comprare una spada che praticamente costa un miliardo e senza avere uno stadio di proprietà in un campionato che non è visto in tutto il mondo quando invece ti copri il mio cast da 300 milioni in un campionato che hai visto 100 volte più di quello italiano e che ha uno stadio di proprietà quindi quello che io penso è che semplicemente quando verrà fatto questo finalmente dopo 25 anni è la prima volta che vedo finalmente un'accelerazione per lo stadio quando Inter e Minan avranno lo stadio la vita cambierà magari non il giorno dopo ma due giorni dopo sì vuol dire che da una parte tu avrai sarai aspettibile per dei club scusatevi dei fondi o dei proprietari stranieri perché finalmente l'Inter e il Milano hanno un bene immobile che attualmente per il Milano e il Casa Minan e per l'Inter è il streaming center fine chiarissimo è stato chiarissimo aspetta adesso allora l'ultima domanda che ti voglio fare è molto particolare perché non so se stai seguendo la situazione sui social in particolar modo su YouTube ci sono molte notizie che vengono date per certo e smentite da giornalisti quindi con fonti tutto da verificare e quant'altro possiamo parlare praticamente di fake news amplificate ora io voglio sapere cosa pensi delle fake news e quanto queste fake news possono condizionare l'opinione dei profosi guarda io direi che devo fare una o due premesse rispetto a questo nel senso che quello che sta succedendo praticamente riguarda diciamo che anche altri settori altri mondi perché stiamo parlando di una vicenda che come sapete guarda anche ai Novax ai No Green Pass a un mondo che è fatto di negazionismi di cospirazioni la vera è magari una cospirazione su cento è anche vera o forse anche due diciamo tre anche io ho il mio tema della cospirazione anche io penso che possano esserci degli alieni non ci hanno detto niente e magari la rea 51 esiste veramente da un punto di vista cioè io ci ho fatto delle serate parlando di questo un po' è il divertimento un po' di verità c'è un po' c'è il mistero eccetera eccetera dall'altra parte perché la prendo così lo arga perché questo tipo di situazione nasce da un cortocircuito che non può che esistere oggi perché ed è una materia che mi insegno tra l'altro recentemente ho fatto una lezione proprio sulle fake news e su come naturalmente riescono a circolare e dall'altra parte la domanda è cioè le fake news girano anche nella stampa ufficiale cioè il motivo per cui le fake news esistono e esistono perché le notizie fake vengono tranquillamente esternamente spacciate anche dalle media ufficiali facciamo un esempio c'è stato un esempio di qualche guarda giusto oggi è uscita la notizia di una calciatrice francese del Paris Saint Germain tre giorni fa la notizia è stata messa sul Corriere della Sera questa calciatrice c'era un po' più grande così a caratteri cubitali una vicenda come quella di Tony Harding la patinatrice che aveva fatto gambizzare una rivale una vicenda simile caduta in Francia hanno sbattuto tranquillamente in prima pagina l'amica che l'avrebbe invitata oppure che l'avrebbe siamo già detto di andare a una certa parte e sarebbe stata poi gambizzata da due uomini perché così lei prendeva il suo posto ma stiamo parlando di tutta pagina del Corriere della Sera oggi viene fuori la notizia dopo due giorni non dopo due anni che non sarebbe stata la collega barra calciatrice perché sarebbe stato invece un uomo che sarebbe stato in amore come dire lasciato in passato cioè comunque non c'entra mente la cosa vuol dire che intanto è questa che è stata sposta prima di tutto sbatti il mostro in prima pagina che è anche un bellissimo film degli anni 60 italiano che dovrebbero tutti vedere e che tra l'altro ti fa capire come nascevano le fake news già all'epoca posto che le fake news quindi esistano ed essendoci quindi le fake news anche di regime tra virgolette e quelle ufficiali figuriamoci se non ci sono in modo ancora più massiccio da un punto di vista non ufficiale perché con il fatto che da circa 10 diciamo anche di più diciamo dal 2002 2001 2002 esistono questi siti questi profili è un discorso un po' lungo ma cerco di scomprimerlo esistono dei social io stesso mi ricordo che una mia ex collega in radio aveva fatto un social mi chiamava Express mi pare mi aveva chiesto di partecipare e su quel social a volte giravano delle cose molto divertenti ma giravano delle cose che non avevano nulla che vedere o che spartire con un minimo di senso allora ho capito in questi anni che se tu racconti una cosa bella agli altri ragazzi arrivano gli alieni e butteranno un miliardo sulla terra e tutti quanti diventeremo ricchi io vi garantisco che qualcuno disposto a credere a questo c'è se si dicono che le pecore volano e che sono pericolose e che il male del mondo sono le pecore qualcuno che crede che le pecore non c'era quindi si tratta di ciò che noi vogliamo convincere c'è una vecchia battuta che tra l'altro in comunicazione uso sempre il mondo non è come noi non giudichiamo il mondo per quello che è ma per come lo vediamo e quindi se qualcuno ci racconta una bella favola oppure la cosa che ha comunque la sensazione di essere vera noi ci crediamo questo per dire che se qualcuno mette in giro la voce io mi ricordo che sono nato e cresciuto con dei millantatori non so perché lo facciano io non lo ignoro mi ricordo che quando ero direttore di Radio Milan Inter nel 2006 mi chiamo un signore che dice guarda io lavoro in ospedale devi sapere che qui c'è Facchetti che è ricoverato ed era vero che era ricoverato io faccio l'infermiere però te lo volevo dire sai io vi ascolto sempre tutta mattina volevo dirti che Facchetti è morto come è morto si si è qui e tu caspita allora ma in che senso guarda adesso non posso dire mi ha fatto tutto un discorso di che stanza era chi c'era com'era però ti dicono probabilmente non lo vogliono dire subito perché vogliono aspettare e non mi ricordo cosa mi ha detto io sono un po' stranito gli ho fatto 3, 4, 5 domande mi sono accorto che secondo me poteva essere un millantatore anche ho detto mi dispiace ma io perdonamente devo prendere le verifiche no no è giusto e normale che tu prenda le tre verifiche che io chiamo l'Inter e tu guardi c'è un signore che mi ha chiamato dice così 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 ti scusi ci puoi dare il telefono io l'ho dato ovviamente lo hanno massacrato questo era un millantatore poi Falchetti sarebbe morto sì ma dopo un mese e mezzo io ne ho parlato anche con Gianferice il figlio per dire la questione quanto a volte si giochi su questo discorso pur di dare un'informazione pur di dire una cosa che viaggia tra verità e bugia o forzando la verità in un modo che possa in qualche modo essere credibile la si spaccia la si rischia a volte c'è anche che ti andava bene allora io non lo so perché certe persone facciano così non ne ho più polle di idea ma quello che è più grave non è soltanto che qualcuno gli dica questo genere di cose la cosa che mi sconvolge è che la gente ci crede e se tu dici una cosa che è diversa ti massacra cioè oggi non c'è più differenza tra il giornalista e lo youtuber non c'è più differenza per molta gente evidentemente tra il personaggio che va comunque sui social a dire determinate cose perché così almeno molta gente dice lui sì che dice le cose come stanno mica la stampa mi vergogna e quindi tutto questo corto e circolto nasce dal fatto che ci sono più piani che si sommano quindi è chiaro che io personalmente non dirò mai a meno che non abbia certezza assoluta talvolta me l'avevano data che per ne so un giuratore sarebbe arrivato all'Inter una volta mi hanno detto come ufficiale dall'Inter me l'hanno detto cioè più di così non è arrivato non è arrivato e di nuovo come l'ha detto l'Inter allora io posso immaginare i colleghi che lavorano con il mercato io collaboro molto con tutto il mercato web mi hanno raccontato tante cose io mi ricordo Niccolò Ceccarini quante cose mi ha raccontato tante vicende ma anche di Marzio è un'altra interessante una volta mi ricordo anche lì su storia della sera Allegri alla Roma non so se vi ricordate Allegri alla Roma poi era tutto vero l'ha già fatto poi è saltato tutto per un cavillo e sappiamo che Allegri non è più nato a Roma ora cosa vuol dire che evidentemente ci sono anche dei miei carismi che impediscono notizia quel quanto sia vera che poi risulti essere tale ma io chiedo anche a tutti quelli che leggono in Italia la gente si informa ma non legge questo è un paradosso la gente si informa ma non legge quando io pubblico il mio articolo tutte le volte io mi rendo conto che sotto il mio articolo lo 70% di chi fa il commento non ha letto l'articolo e quando gli chiedo scusa ma perché non hai letto l'articolo ah si capiva dal titolo esatto bravo esatto ma se si capisce dal titolo vuol dire che la gente è come che dico che la gente si informa si informa sui social informare vuol dire che dà un'occhiata perché è curiosa perché vuol sapere e se una notizia gli piace se qualcuno dice quello che vuol sentirsi dire lui non solo si crede ma dice io giuro che è quello che dice vero ora quindi io non lo so se è PIS davvero il 19 perché io ho fatto con Marco Berinazzo questo ieri Marco Berinazzo solo il 24 ore con Carlo Festa in talchine formati io poi tra l'altro lavoro anche come disegno comunicazione per alcune società che si occupano di affari e finanze ne abbiamo una proprio dove c'è Radio Nell'Azzurra a Tribù che si chiama Wall Street Italia e che si occupa di mercati di finanza e che lavora con la Cina io ho chiesto a tutti loro avendo questa possibilità privilegiata mi chiedono ma PIS e tutti mi guardano e mi guardano io non sappiamo cosa tutti io non so dove nasca questa voce ma noi non sappiamo niente sarebbe un club di teatro clamoroso se si verificasse davvero che questa vicenda è vera anche io quindi quando me lo chiedono io dico guarda nonostante io conosca Tizio, Caio, Sempronio eccetera eccetera io non ne so nulla e qualcuno ha aiuto a dirmi ma che razza di giornalista sei? lo sanno tutti che il 19 PIS prenderà l'Inter è vero hai capito? e quindi tu animali fa sì è vero probabilmente non sono un giornalista perché non ho chiesto le persone giuste non so chi scusami gli ho chiesto a questa persona la persona che dice che invece PIS o le persone che dicono che PIS prenderà l'Inter 19 a chi si sono rivolte? ma non importa a chi si sono rivolte lo sanno tutti è vero e tu alti le mani di fronte a questo alti le mani perché l'oroscopo per esempio mi dice che cosa a volte succede veramente quello che c'è scritto nell'oroscopo ma non vuol dire che l'oroscopo sta perfettamente la mia vita e sa quello che io farò durante il giorno cioè capisci? io magari il 19 è quello che io voglio dirvi è che probabilmente davvero magari arriverà una notizia clamorosa però tanto cielo sarebbe interessante sapere quali sono le fonti che arrivano e come mai nessuno lo sapesse posto che vorrei ricordare a tutti un'altra cosa quando Toir disse esattamente due settimane prima che l'intervenisse venduta gli chiesero un altro il ma allora l'inter è un passo da essere ceduto e lui disse ridendo il faccio al giornalista chi è che dice queste cose? fake news vergogna come si fa? siete giornalisti? e poi dopo due settimane ha venduto l'inter quindi avere una formazione ufficiale dicendo chi sono le fonti e rivelandone è complicatissimo molto più semplice di non sapere una fonte tanto poi alla fine una volta si avverrà perché poi ieri Bellinazzo ci ha anche detto l'inter prima o poi verrà venduta che glielo ha anche rifacciato scusa in che senso l'inter prima o poi Suning la venderà e lui ha detto guarda l'idea è che lui comunque aspetti il contratto dello stadio quando ci sarà la cosa quindi quello che ho detto prima io a voi anche io penso che Suning venderà quando penso che non è sicuro che c'è una bella differenza tra sparciare una verità e tra darne una verità che come dire nasce da un'ipotesi sono due cose ben diverse la mia è un'ipotesi non vengo a vendere fumo non racconto cose di cui non si può essere sicuri ecco solo questo no allora ti ringrazio prima di tutto Lapo per tutto quello che ci hai informato le informazioni perché sono sempre comunque attendibili a prescindere da ciò sei un professionista serio ti chiedo solo visto che comunque fai parte di comunque una struttura di sponsorizzare un attimino tutte le tue radio nera azzurra tutte quante così almeno diamo possibilità alla gente che ci segue di poterti seguire sulle varie social beh la radio nera azzurra ormai esiste da due anni e mezzo è una radio che è nata dall'esperienza di Radio Monte Carlo Sport che è lo fin off di Radio Monte Carlo dopodiché il gruppo Tribù che era uno dei tre editori della radio ha deciso di continuare a puntare aveva bisogno di una radio anche a cui poter puntare digitale e qui siamo adesso come radio ormai a due anni e mezzo c'è un gruppo che fa un lavoro eccellente ma siccome possiamo avere una mega redazione allora ci siamo collegati a un po' tutte le realtà che si occupano di Inter seriamente e che lo fanno verticalmente quindi noi come radio tutti i giorni aspettiamo gente come FC Inter News FC Inter 1908 Spazio Inter Inter Dipendenza Inter News e l'ultimo arrivato che è l'interista.it ok perché l'interista.it che fa parte del gruppo di Fittomecato Web nasce e prende il posto di FC Inter News perché FC Inter News è andato in gazzetta e siccome loro avevano bisogno di una diciamo un sito che si occupasse dell'Inter all'interno di Fittomecato Web che ha tipo Mila News Tutto Juve avevano bisogno di un sito loro di proprietà perché FC Inter News non era loro Mila News è di è di tutto mercato web Tutto Juve è di tutto mercato web cioè proprio loro invece FC Inter News non era di loro proprietà e quindi l'interista.it è di proprietà di tutto mercato web e quindi mi hanno chiesto di diventare direttore io ho detto molto volentieri e quindi forse fondamentalmente verticalmente oggi una parte della mia vita un buon 35-40% della mia esistenza è legata al calcio e quindi all'Inter e con queste due due realtà Radio Nera Azzurra ha lo scopo di essere una radio di infotainment che fa molto divertimento perché parlare tutti i giorni se ademente di calcio non è facile e dall'altra parte l'interista.it si si a provvisione diciamo che riesce a dare notizie costantemente ogni 3-4 minuti si aggiorna la pagina anche saluto domenica perché ha tutto il muro di informazioni che provengono da questa diciamo macro famiglia cioè non è che è nato lo interessa appunto così è nato ma facendo parte di un complesso molto più grande questo oggettivamente mi piacevole e quindi queste sono le due realtà calcifiche poi vabbè un'altra cosa che faccio il giorno è radio ma immagino che a voi interessi meno queste sono le cose perfetto ti ringrazio un abbraccio grosso a risentirci più presto e seguite l'apo ovviamente su Radio Nero Azzurra grazie grazie ovviamente l'apo ti aspettiamo in live una sera di queste tu lo sai ogni sera siamo in live tieni presente che io faccio da circa ormai quattro mesi e da gennaio sarà anche peggio mediamente sei ore di diretta sei ore di diretta tutti i giorni quindi è un massacro io amo parlare come vedete anzi come sentite ecco ti assicuro che io arrivo a sabato sono devastato sei ore a giorni di diretta talk poi eh faccio tre ore di diretta la mattina il pomeriggio su Giornale Radio sono due ore di diretta da gennaio con un programma dalle 17.30 alle 19.30 che si occupa però di attualità di politica e di tutti altri affari e quindi può anche immaginare cosa eh lo so sono cittavocchio storto sono questo ti do un abbraccio a voi un bacione grazie ciao ragazzi ciao 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 eccoci qua spero che mi sentite perché nel frattempo mi si è rotto il microfono quindi ci sentiamo ti sentiamo ti sentiamo grandissimo intervento di là grandissimo intervento sì è stata è stata è stata una bella intervista doveva dedicarci solo un quarto d'ora poi alla fine si è fermato mezz'ora a parlare grandissimo no no poi è giornalismo quello capito è diverso da insomma lui è un giornalista tutto tondo non fa solo lo sportivo quindi si vede che è un giornalista insomma anche da come parla le loque da quello che dice insomma non è non è uno che sai il fatto suo sai il fatto suo il problema etico l'ha tirato fuori anche lui non solo io quindi eh no sì ma infatti come fai a non tirarlo fuori nonno non lo so no no perché alcuni dicono un piff deve venire comunque cioè non c'è nessun problema di piff ripetiamo qua nessuno non vorrebbe piff come ha detto no io lo voglio io lo voglio tu sei l'unico io pure dal primo giorno te lo dico io che associo a Eugene sono tre per me potete associarvi a taggarvi alla cozza quanto volete però il discorso è che l'Inter ha bisogno no no ma io non è che voglio slang a vita come ho scritto no no ma no ma non parlo non parlo allora lui prima parlava lui prima parlava di contratto per lo stadio sì e cioè ci vuole tanto tempo per fare questo contratto per lo stadio oppure è già proprio siamo agli sgoccioli perché qualcuno in chat ha scritto il contratto già c'è no non c'è il contratto non c'è ma non c'è ma non c'è magari ci fosse si parla di 2030 per fare lo stadio stiamo in Italia ma poi è un contratto che dobbiamo firmare Milan e Inter insieme ragazzi cioè non è un contratto che si fa in un attimo cioè si può mettere il raccordo Eugenio questa cosa qua lasciamo perdere perché c'è veramente io avevo 16 anni da quando si parlava dello stadio appunto quindi quindi c'è veramente una cosa però finalmente come dice l'Apo no si è arrivati già a una grossa già un grosso passo sì sì ma a Roma si parla del stadio cioè ragazzi a Roma doveva fare lo stadio quando c'era come si chiama il Manco Manco Marino quello prima di Marino oddio si no 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 quello fascista non mi ricordo manco più no il nano il nano fascista adesso non mi ricordo non mi ricordo esatto però ragazzi adesso è indiscutibile che a Milano si è passati dal parlare dello stadio a sorvolare alcuni ostacoli burocratici cioè siamo siamo diecimila passi avanti rispetto al parlare ma anche perché l'altro giorno Antonello ha detto che dovevano rivedere i progetti quindi sì però la politica si sa che comunque è molto cioè è molto lenta anche perché le concessioni mie che te le danno cioè devono fare la politica la politica ha stabilito dei paletti no sul quali andare a sistemare i progetti in modo da garantire determinate caratteristiche questo è quello che ha fatto la politica Paul Fox dice che lo stadio a Milano sembra il progetto dello stretto di Messina sì invece lo stadio a Torino sembra un cesso proprio no lui intendeva dire che si è detto ma non l'hai fatto sì non so cosa voleva dire ho capito però 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 il discorso è che ragazzi cioè costruire uno stadio non è una cosa semplice in Italia cioè veramente passano almeno abbiamo delle date 2027 2030 2030 però aspetta però quando c'è una cosa da costruire il ponte a Genova in tipo un anno e mezzo hanno bruciato il ponte è sto cazzo eh finché quando conviene è un cazzo quando conviene si muovono e fanno quella è una cosa indispensabile che c'entra stiamo parlando della piazza della Reggio Calabria blind è 50 anni che li ha merda sì ho capito ma tu a Reggio Calabria ci vai lo stesso anche se ci sono i lavori ci arrivi lo stesso ragazzi costruire questo è uno dei motivi per cui secondo me le proprietà straniere tendono anche a non venire in Italia è quello di non avere lo stadio di proprietà perché comunque sì ma è troppo complicato ma lo stesso commisso a Firenze quanto sta sbattendo per fare lo stadio di proprietà perché lo stadio di proprietà garantisce ed è Firenze ed è Firenze non è Milano garantisce cioè se voi pensate a Londra che c'ha 8-9 stadi no? 8-9 stadi Londra io non capisco perché Milano non possa avere uno stadio di proprietà ma io ho letto che anche Bologna sta per fare nuovo dall'Ara sta per fare sì ma si parla di installazione si parla del 2027 come ha fatto anche l'Atalanta che ha sistemato il come cazzo il Gerberit stadio il Gerberit è quello degli scarichi no no Gerberit quello che fa come James e Richard Ginori stesso allora ragazzi il discorso è questo che lo stadio secondo me è fondamentale questo non parlo solo per l'Inca ma parlo anche per le altre società per attrarre capitali dall'estero altrimenti nessuno viene ad investire soldi positivi come dice Lapo nell'intervista si è meravigliato che un fondo che è attento all'economia come quello di PIF possa investire un miliardo nell'Inter che non ha uno stadio di proprietà quando può investire tranquillamente 300 milioni sul Newcastle che ha uno stadio di proprietà è un campionato che è visto in più parti del mondo cioè oggettivamente questa è una cosa che dovrebbe far riflettere su questa cosa qua certo è che adesso l'Inter ha in mano diciamo il via libera da parte della politica per procedere al ma come dice anche Alessandro non è solo la costruzione di uno stadio ma è la riqualificazione di un'intera area ma infatti i paletti della politica vertono proprio sulla riqualificazione della zona San Siro cioè non è che è tanto semplice è molto complessa come situazione non è che si realizza domani ecco perché si parla 2026 ma per l'impatto ambientale il Toro è stronzata lì ce n'è a bizzetti ce n'è ce n'è di roba d'acqua d'acqua sotto i pozzini deve passare tante ancora però però ragazzi è fondamentale perché l'Inter possa essere ceduta a un prezzo congruo voglio rispondere un attimo ad Azzurramenga l'acqua che ha scritto quella cosa cioè allora De Carlo è un giornale Lavo De Carlo è un giornalista non è un menagrano come dici te è uno che fa che fa giornalismo e quindi non è che va avanti a notizie totalmente create dal nulla capisci cioè una cosa è quello che tu vuoi una cosa è come diceva Giulio giustamente una cosa è il proprio volere una cosa è la notizia cioè tra il proprio volere e la notizia bisogna distinguere discernere cioè una cosa è quello che uno vuole vuole che l'Inter abbia tanti soldi che ci sia un fondo che sia illimitato nello spendere molti di voi vogliono questo ma non è detto che questa sia la notizia questo è quello che tu vuoi non è la notizia quindi non è un menagrano quello che ti dice una notizia è uno che ti dice una cosa che lui sa che è diverso dal quello che tu vorresti che sia ecco lo so come il discorso che faceva Lapo appunto su fake news cioè quando gli chiedono una cosa lui magari non è a conoscenza nonostante si sia informato perché è il suo lavoro quello di informarsi si trova davanti a gente che dice tu non sei un cazzo perché tutti lo sanno ma tutti lo sanno cosa? cosa domando io tutti lo sanno cosa? eh ma lo sanno tutti intanto intanto lo so pure io la prossima settimana dovrei se il 19 succede quello che deve succedere la prossima settimana cominceranno a uscire notizie più chiare dai no guarda basta aspettare domani perché domani? arriva il principe domani come dicono arriva il principe è che ne so arriva il principe la domanda che la domanda di riflessione che vorrei porre a tutti quelli che credono che domani arrivi il principe e il perché dovrebbe arrivare il principe e non arrivi Zhang cioè se le parti no e te lo spiego io perché filmavo Skype filmavo Skype no no perché a Milano a Roffiera c'è il Games Week c'è il Games Week e quindi va a visitare la fiera del Prince Week ah sì vabbè ma ma Blind non è Prince of Persia quello ah no ah ok no allora Aladin Aladin io mi faccio una domanda semplice da ignorante mi faccio una domanda allora perché ci doveva essere un CDA l'altro giorno che non c'è stato che non c'è stato con personaggi perché è arrivato un comunicato no no ma aspetta con personaggi che dovevano essere dismessi all'interno della società prima di entrare in una società ma io mi chiedo perché dovevano esserci tutte queste cose che sono cazzate perché poi queste sono realmente cazzate ma poi viene il principe per poi dare una data che poi viene sconfessata rimandata rispostata dopo rimandata a maggio e rimandata a luglio sembrano i ragazzini quando sono rimandati a settembre perché no ma poi scusa doc ma viene il principe non abbiamo nemmeno il cda perché è tutto dimensionario dal cda queste sono cazzate le date sono cazzate perché quando uno vuole fare dalmeno 15 almeno 6 poi si trova in difficoltà non sa più cosa dire poi si dice il problema è questo che quando uno dà una notizia magari anche vera poi dopo capito vuole vuole esagerare e poi magari ecco sbaglia a metterci ma questo ma questo ci sta questo ci sta ma quando si fa un countdown uno si prende le responsabilità del countdown poi perché quello è brutto uno dice guarda secondo me dovrebbe essere così in questo periodo succederà questo non che uno fa dalmeno 10 almeno 19 poi dopo fa la figura di merda e dice no guarda non è loro ragazzi non è loro in generale c'è un discorso generico perché quanti ne sono state fatti da Mertens alla cosa di Giroux quante cazzate abbiamo sentito la cosa principale è questa tutti siamo d'accordo sul fatto che l'Inter se avesse i miliardi da spendere saremmo il Real Madrid barra il Manchester City barra il PSG ma poi sinceramente detto fra noi no che qual è il problema dell'Inter anche quest'anno è il problema di una squadra che che cosa fa cosa fa più bello non chiude quindi non andiamo lì a discutere di quello che è il problema dell'Inter quando il problema dell'Inter è l'Inter stessa ok perché bello andare a discutere io ho sentito che volevano tutti fuori conti adesso vogliono tutti adesso c'è Inzaghi Out cioè ma veramente facciamo ma veramente ma infatti Roberto non cambia nulla se è 23 l'ufficialità il problema è per chi si è esposto dispiace questo ma che è 23 l'ufficialità ragazzi è l'ogico che ti massacra ma a novembre ascoltate un pirla a novembre cosa volete fare un cambio totale di struttura cioè ma io ma ci vogliono solo le basi dell'economia non serve neanche ma dicono che anche Toir ha venduto a novembre comunque sì ma Toir era già una questione che era suggellata da un accordo che è stato intrappolato in un discorso che si sapeva già a settembre come sarebbe finito e poi era già stato inserito in tutte quelle che erano le pratiche qua di pratica non c'è neanche una l'unica pratica è l'assorbente che c'hanno tutti addosso tutti questi intertriti di merda che c'hanno l'assorbentino per sapere che domani arriva domani arriva ma ragazzi ma anche se arriva il principe domani ma secondo voi spende i soldi in Italia non si spende un cazzo in Italia se non c'hai i conti a posto non fai nulla 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 hanno mandato quasi in galera anche Berlusconi per le cazzate che poi non c'è mai andato per diversi motivi ma quasi non succede nulla in Italia se non è realmente suggellato da degli accordi o che si possa seguire l'iter burocratico l'Italia è una merda su ste cose non si può far niente ragazzi non si può far nulla non pensate che arrivi anche il re di Spagna e ci possa portare dei soldi perché qui i soldi se non sei in accordo e in equilibrio con i bilanci non fai niente no ma ripeto non è tanto quello perché magari vedremmo venduti magari proprio a pif non so quando che sia a novembre che sia a luglio non me ne frega l'importante poi io ti fu l'inter in ugual modo non lo so io spero che ci sia qualcosa di vero in tutte queste cose che si stanno dicendo spero che qualcosa si concretizzi la mia preoccupazione più grossa che siano le solite fake news che ci sono di solito cazzo abbiamo avuto più giocatori in ultimo periodo abbiamo anche messi però non è arrivato peccato probabilmente probabilmente sono gli stessi cioè io spero che cada qualcosa ma veramente col cuore però non così ragazzi non in questa maniera questa maniera non ha veramente senso e poi ricordatevi una cosa se non si fa dopo il 22 23 24 25 cosa succede si va al prossimo anno perché abbiamo deciso di spostare ancora le date ma no ci saranno problemi burocratici che porteranno avanti la cosa sicuro è quello il problema secondo me senza il cosiddetto contratto da stadio non si farà nulla a mio avviso questo non lo so perché non so a che punto sono non so se hanno visto i progetti ma anche se hai il contratto lo stadio lo devi pagare e sempre chi ritira la società si paga lo stadio sappia ma noi dicevamo come diceva l'altro se hai un contratto se hai un contratto tu sei proprietario già di quell'immobile capito quindi anche se non è stato ancora costruito comunque ce l'avrai fra dieci anni quello che sia quindi è più facile rendere comunque resta il fatto Paul Fox vedi Doc ha scritto una cosa interessante siamo sicuri che venga proprio per l'Inter no ho detto vada a Games Week a Milano vada per il post player vada per il Aladin ma per me può venire anche per il Milan può venire anche per i cazzetti SRL cioè il discorso che in Italia tanto anche se allora hanno fatto una dichiarazione molto chiara hanno detto in Italia è una merda l'hanno detto loro l'hanno specificato loro l'Italia è una merda cioè gestire le cose a livello burocratico economico eccetera è un casino non vogliamo problemi non vogliamo neanche investire su una situazione che può crearci diciamo quel fastidio di non poter a lungo termine avere i nostri obiettivi non c'è stabilità non c'è l'hanno detto non è solo quella ma non sai nemmeno se ti fanno fare determinate cose come hanno avuto dei blocchi in Inghilterra in Spagna come diceva l'Apo anche cioè chi ti dice che in Italia te lo fanno fare qual è il problema in Italia cioè io sicuramente l'unico motivo per cui non vorrei PIF è che se PIF viene qua o mi mette i soldi e mi fa vincere per dieci anni Champions e campionato oppure è inutile che viva perché se deve venire qua a fare autofinanziamento per me può starsene dove sta ma forse l'autofinanziamento tanto avvale che rimangassone se mette soldi nel calcio ti assicurasse di vincere a quest'ora ci sapevano so quante stelle sul petto sciagurate se era garanzia di vincere qualcosa mette soldi nel calcio Ancora Roberto Spatola Morticia o come la chiami tu è il braccio destro il suo fondo è il braccio destro è colei che quel fondo lì BC part come caccia sono coloro che fanno da intermediari quindi non può parlare a nome suo parlava a nome di PIF sono quelli che gli gestiscono queste cose a livello europeo non comprano per conto loro ma si ragazzi cioè è così cioè che cazzo stiamo parlando chi è lo vede il nonno il nonno il nonno ma si Alessandro ma lo sappiamo anche noi che prima o poi venderà cioè a meno che non succeda un miracolo che vince a Supernalotto ma noi non ne chiamo che i cinesi non venderanno in futuro cioè non è quello neanche la situazione sarebbe migliore se tu avessi il proprietario non lo si può sapere se le potesse mettere soldi poi Matteo ha detto l'Apo scusa sto rispondendo Matteo ha detto l'Apo che lui ha chiesto anche persone che stanno nell'economia quindi in borsa queste cose qui addirittura che lavorano con i cinesi che non si sa niente niente sa niente nessuno sa niente questo ha detto beh ragazzi io suggerirei a Matteo Silvio in prima poi di vederlo bene la live di rivederla perché te lo spiega bene ragazzi ma è proprio un discorso alle basi ma poi a prescindere chi se piuttosto che fosse un arabo fosse anche Elon Musk sparo la cazzata ma tanto quando non ce li investono Elon Musk ha comprato il bitcoin ha fatto fallire il bitcoin altro po' il bitcoin ci sta morendo anzi vuole vendere il 10% dei suoi bitcoin ragazzi non confondete le cose vi prego ha fatto un sondaggio su twitter poi ha ricomprato le sue azioni e ci ha guaninato un milliard e mezzo sono quei maggi esatto non le fanno le cose nel 2011 ha fatto festa ci ha azzeccato e vabbè ma le criptovalute non sono solo bitcoin ragazzi ne escono decine decine ogni giorno di criptovalute si basano sul concetto del blockchain che è comunque un concetto della criptazione dei dati che vengono catenati Eugenio avevo visto un ragazzo che di Milano ci ha trasferito in Bulgaria a fare sto andazzo aveva investito quasi più mezzo milione di euro ma un cappare che viene fatto con le schede video e viene e fa sfruttando il valore della GPU sarebbe del processore della scheda video puoi creare criptovalute cioè puoi dare la tua potenza della tua scheda video per creare criptovalute ti serve un sacco di energia sì infatti non è conveniente in Italia è conveniente nei paesi dove l'energia elettrica costa poco quindi nei paesi ma guarda come lo che tutti gli armi di pannelli solari costa pochissimo la domanda vera di stasera è come ha fatto Luigi a rompere il microfono dove sei? Luigi ha romputo il microfono perché gli è cascato la birra sopra e quindi ovviamente ha ubriagato il microfono e purtroppo è mezzo sballato no no non mi è cascata la birra sopra ti sei fumato che cosa? sempre io sto bestemmiando sto parlando di droga davvero guarda porchi il mondo non c'è già bestemmio da solo oggi mi va a parlare pure di droga porchi no io non l'ho l'unica bestemmia ammessa è PIF PIF non lo so non lo so non lo so soltanto che mi si è rotto qua la porta USB del microfono ahia Dino Dino Melodia dice Dino Melodia scrive per me PIF è come la storia di Arnaud al Milan ah si me lo ricordo l'Arnaud quando ne parlava ne hanno parlato per un bel periodo si si era quasi arrivato io caccio mercato strano io dico però ragazzi c'è fra una settimana abbiamo contro al vertice nonno sai qual è è che oggi si è fatto ma stasera si è fatto male anche De Vrij esatto abbiamo la partita più importante della nostra stagione e giocheremo con Ranocchi al centro della difesa Ranocchi è fortissimo il secondo nome farà un gran partitone come Luigi ben sa non si discute Froggy non si discute Froggy è un capitano non si discute non discutiamo i giocatori che sono ma Varello ora sta meglio che hanno dei problemi tanto quello c'hai quindi se deve essere per forza il miglior centrale del mondo no vabbè perché se tu sposti Scrinia al centro e metti no lascia perdere Scrinia al centro non metti De Marco che non lascio perdere mettimi la nocchia quello là lo fa benissimo diciamo questa cosa ragazzi in questi giorni qua ci sono stati un sacco di problemi a livello fisico e non solo infortuni tra Vidal Geco e Varella però Vidal non ha più problemi ce l'abbiamo Matteo Silvio oh oh finalmente oh la stasera ho avuto un po' di problemi tecnici col telefono e con mia nonna che non è stata tanto bene allora buonasera 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 a voi in compenso c'è Piff che ti fa sognare ma guarda tra l'altro prima prima che mi si scaricava il telefono c'è un mio amico della Juve che sta tremando si arriva Piff perché comunque vabbè lui pensa che ma perché ti dico lui pensa che gli arabi siano cioè nel senso ti comprano le figurine io ti dico non sono sicuro che ti comprano le figurine e spero che se arrivano non li comprano perché comunque la squadra a me non mi piace con Neymar cioè nel senso è figo avere Neymar però poi però poi alla fine se non vinci niente è solo figo vedere questi qua cioè vai a Milano quindi tu sei per un progetto di autofinanziamento no io sono un progetto nel senso a me questo progetto di autofinanziamento volevo chiedere un po' a Luigi cosa intendeva perché io sono un po' ignorante e quindi vorrei farmi spiegare da lui cosa intende come è perché questa parola qua da Zanda l'ho sentita già un po' troppe volte quindi volevo capire lui cosa intendeva perché sai se Luigi mi puoi rispondere ti ringrazio tranquillamente anche perché l'ho spiegato in tutte le sere in live in queste sere qua però evidentemente eri distratto da PIF però non è un problema te lo rispiego adesso che sei qua in live io intendo esattamente quello che intende Zang cioè un'azienda che si autofinanzia è un'azienda che fattura più di quello che è in cassa e la fattura fattura come? non certamente eccedendo i calciatori perché se tu vedi quello che ha fatto Zang fino a quest'anno anno in cui è intervenuta la pandemia e quant'altro noi non abbiamo mai ceduto un giocatore è vero mai mai tranne quella merda di Cardi ma non l'hai ceduta per fare cassa l'hai ceduta per per fare un progetto per vincere lo studetto ragazzi per questioni comportamentali comunque sia l'hai fatta fuori comunque sia l'idea di Zang è quella di fare una squadra un'azienda le squadre sono delle aziende che siano economicamente sostenibili ovvero fatturino più di quanto spendano e questo è il sogno di tutte le aziende del mondo non solo quelle del calcio tutte le aziende del mondo ok detto ciò questo lo puoi fare nel tempo se prendi in mano una situazione disastrosa perché Zang non è che è venuto qua e ci ha affossato Zang è arrivato qua ci ha fatto risalire l'Inter era la squadra che prima della pandemia cresceva economicamente più di tutte certo se non sbaglio aveva una crescita di oltre il 40% del fatturato ovviamente di fatturati sto parlando ed è questa la scala che voleva seguire Zang interviene la pandemia crolla il fatturato crolla decisamente il fatturato con investimenti avviati quindi di conseguenza i costi ti pesano di più che cosa vuol dire questo che sei dovuto intervenire come una sopperire la liquidità che ti viene meno dagli introiti da stadio perché quella è il grosso giro di liquidità che ti entra ogni anno infatti hai perso 70 milioni da introiti da stadio e hai perso altri 70 milioni per colpa del governo cinese che ha messo delle restrizioni agli investimenti all'estero agli sponsor diciamo a me scusami Luigi scusa se non è che ti voglio correggere ma per me sono più di 70 la cosa c'è nel bilancio Inter sono più di 70 però si sono 70 e 70 140 si ho capito infatti ho parlato di 70 per cose di stadio e 70 per sponsorizzazioni in meno io ho letto un centinario per le sponsorizzazioni però se tu mi dici 70 ci può stare ci credo ti chiedo scusa no 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 guarda ci può stare perché poi non è che conosco i conti di Inter come quelli della mia azienda ho letto qualcosa sul coso ci mancherebbe se tu mi dici 70 prendo per buono 100 non cambia nulla nel ragionamento ok tanto non saranno nemmeno 70 quelli da stadio saranno 75 76 però prendo per buono anche il 100 che cosa è successo però ha creato il problema del governo cinese che ha messo dei blocchi ad alcune aziende per le sponsorizzazioni per gli investimenti all'estero che cosa ha fatto questo management ha sopperito la situazione andando a trovare altre sponsorizzazioni tanto è vero che nel bilancio di quest'anno le sponsorizzazioni sono molto più alte rispetto a quelle che erano negli esercizi precedenti una squadra che è autosostenibile quindi deve fare questo deve avere delle sponsorizzazioni alte deve avere del merchandising alto e quindi ribadisco non andate a comprare le magliette a prezzi modici perché io vi dico una cosa se Zhang lascia correre perché poi magari indirettamente le produce lui e quindi ci guadagna lui e non l'Inter con le magliette a prezzi modici attenzione che per gli arabi esiste la legge del taglione ti tagliano la mano se ti beccano allo stadio con la maglietta vabbè finisci pure voglio solo dire una cosa che mi ha fatto un po' scusa il termine un po' ridere non mi ricordo più in live qualcuno mi ha detto i diritti umani degli arabi fanno schifo si ha ragione però si si l'ha detto anche l'apo prima l'ha detto anche l'apo eh ho capito però mi fa ridere ma questo è etico attenzione eh si però mi fa ridere non io che l'ho detto ma uno è direttamente è implicato direttamente allora il principe Mohammed del del saudita è implicato direttamente direttamente nell'omicidio di Cassoggi direttamente Zang è implicato direttamente in qualche omicidio per caso no però Zang è implicato in qualche chi gli faccia una domanda Zang è implicato su qualche omicidio allora no ma se posso dire una cosa se mi lasci solo dire questa cosa qua che ci tenevo dirvela nel senso l'ha detto parte che l'ha detto in tutti i telegiornali l'ha detto in tutti i siti basta andare su internet c'era tutte le parti quindi io penso che sia una cosa inventata c'erano dei ragazzi che erano in cira sono andati in questa chiesa cattolica in Cina non li stava bene e gli hanno e gli hanno fatto un raid cioè quindi per dire ma che c'entra Zang con questo ma che c'entra Zang no perché no aspetta no ma che c'entra con i diritti umani con Zang ragazzi cioè bloccatevi tutti un attimo allora Matteo ho capito quello che vuoi dire finisci il discorso poi ti dico una cosa no nel senso che i cinesi come diritti non è che siano molto meglio degli armi questo volevo dire che poi Zang non hai messo nessun omicida ti do ragione cioè non è che sia Matteo e quello non voglio io no ma quello non voglio ma sono d'accordo la Cina comunque è un stato dittatoriale c'è il comunismo quindi non è che sono proprio di tanti da una parte fermi fermi guarda definire Matteo cioè per dire alle donne cinesi li vogliono con i piedi corti li mettono dei pezzi di legno quello non più ragazzi no non è vero fatelo finire lo facevano i giapponesi le gash quelle sono le giapponesi le gash i giapponesi vabbè però se ci accavalliamo non si capisce niente per te posso anche sparare cazzate vabbè vabbè figurati però sinceramente dirmi che i garbi che i t8 ci fanno schifo però poi rileggo delle cose da parte dei cinesi poi ho capito il tuo discorso che Zang non è implicato da nessuna parte e il principe sì questo l'ho capito una precisazione sola ora io non divide però perché sennò si casca nel nel generalizzare quello che fa un governo con quello che ti contesta la persona io non contesto i diritti civili degli arabi e dei cinesi per l'amor del cielo se si farebbe la gara a chi piscia più lontano a quali sono i peggio per l'amor del cielo qui si contesta che c'è un flatto acclamato attestato a una persona che non è proprio il sì partecipante come ministro nel regime comunista perché per l'amor del cielo si sarà macchiato nell'anni di vai a sapere quali cose per l'amor del cielo ma lui come persona se lo vuoi cosa crimini da colletti bianchi finanziari per l'amor del cielo da una parte si parla di una persona che di attestato attestato va bene ha un omicidio a carico di un giornalista su suolo che a quanto pare è sovrano lui stesso quasi ereditario poi se si vuole parlare di ipotetico di se e di ma si parla di parenti si vuole parlare di quanti parenti ha fatto sparire questo che erai dagli sei di mattina faceva sparire la gente in carcere così con lo schiocco di dita e te lo scrive sui giornali la persona poi i regimi sono un'altra cosa voglio dire una cosa Matteo hai provato mai a ricercare su internet o il mal di testa cosa potrei avere sinceramente no e provaci e poi ti fai un'idea delle informazioni che puoi leggere su internet no ma aspetta no per farti capire questo era adesso parlo io ti ho fatto parlare un attimo questo era per farti capire che molte volte non bisogna soffermarsi sulle prime ricerche ma se uno vuole informarsi deve approfondire le cose allora io ti dico è vero che il governo cinese non è il massimo dei diritti umani anzi sono pienamente d'accordo con te però quello che ti stanno dicendo è qua non è che si fa un processo ai sauditi non si sta paragonando i cinesi e i sauditi io sto paragonando Bin Salam Ahmed come cazzo si chiama lui a Zhang e se devo guardare le due persone no uno c'ha la rogna ma l'altro cioè facciamo stare eh l'altro è improponibile è improponibile se poi tu mi vieni a dire mi vieni a dire da un punto di vista economico questo c'ha un patrimonio che oserei dire illimitato io ti dico sì c'hai ragione e da quel punto di vista chi è che non lo vorrebbe anche Eugene che è un vecchio di merda alla fine quel patrimonio illimitato lo vorrebbe a gestione dell'Inter è chiaro è chiaro questo però la questione etica non la sottovalutate non la sottovalutate anche perché se già adesso la stampa ci fa un culo così ci fanno un culo così perché noi su Youtube che dovremmo difendere l'Inter siamo una massa di coglioni no? perché o fanno una gara a chi fa più visual a chi spara la minchiata prima per avere più visual ok? mentre invece dovremmo metterci tutti a difendere l'Inter i giornalisti interisti non gli tappano la bocca spesso e volentieri quindi non è possibile perché siamo una stampa di regime e non c'è niente da fare perché se siamo dopo il Borundi nella classifica mondiale come libertà di stampa la dice lunga la dice lunga però immaginate che cosa ci fanno cosa ci possono combinare nel momento in cui un pluriumicida un terrorista prende in mano l'Inter perché di questo stiamo parlando e sto parlando del lato solo etico perché dal punto di vista economico è un po' la facilità con la quale si accetta che mi lascia disarmato esatto è questo che mi lascia disarmato da un giorno all'altro l'ho accettato benissimo però aggiungo un'altra cosa che se dal punto di vista economico mi sta bene no? attenzione perché poi non mi potete venire a dire che non volete le figurine perché se ti sta bene dal punto di vista economico vuol dire che ti sta bene che questo compri i giocatori perché butta i soldi nell'Inter non perché li deve regalare a quelli che ci sono vuol dire che ti aspetti le figurine c'è l'aspettativa che ti viene creata dall'arrivo di PIF e che tu fai un mercato da 300 milioni altrimenti non è altrimenti ti tieni zanghi perché questo qua allo stadio non ce lo vedi mai perché più di sei il capo di un governo il capo di un governo estero se ne viene qua allo stadio e vede l'Inter sai quanto cazzo gliene frega dell'Inter Luigi quando posso posso dirti una cosa quando è finito ma scusami ma scusa scusa una cosa no perché perché se no qua secondo me nel senso l'Inter quanto fattura no ti chiedo dimmi ma sarà sui 400 milioni adesso non ci arriva non arriva neanche tra 80 3,67 come fa PIF a giugno a spendere 300 non si può fare vai incontro a fare per il finanziario non vuoi farlo dagli tempo negli anni che ti porta sponsorizzazioni eccetera eccetera e poi farà quel mercato lì tu al primo anno non ti puoi aspettare 300 milioni scusami scusami un attimo posso finire scusate se io dico non puoi aspettarti 300 milioni guarda cosa ha fatto lo scicco del PSG che magari può aver sbagliato tutto ma il primo anno non ha speso 800 milioni per dire il primo anno ha preso Pastore ha preso quella gente lì cioè non ha speso un casino il fatturato dell'Inter adesso è bassissimo negli anni con l'avvento dei PIF secondo me lo aumenterà e allora arriveranno giocatori ho finito guarda su questo bloccatevi un attimo bloccatevi un attimo sì ma Zang se prima della pandemia della pandemia ti ha moltiplicato il fatturato dell'Inter in modo strepitoso cioè non scherziamo su questo cioè Zang da un punto di vista economico no? proprio per quello che dicevi tu tant'è vero che l'anno prima di vincere lo scudetto quando hai preso conto ne ha spesi 200 sul mercato sono stati 200 e spesi sul mercato quindi di che cosa stiamo parlando? io non ti sto parlando Zang Zang è uno che ragiona in questo modo Zang è uno che ragiona in questo modo e secondo me PIF ragiona anche in questo modo perché quello che quello che quello che sto dicendo io è che non so tu ma il 90% perché ho fatto un sondaggio su Instagram e tutti vogliono vogliono il mercato no? ho fatto il sondaggio apposta su Instagram per dire certe cose voglio capire che cosa vuole il tifoso che cosa si aspetta il tifoso da da PIF e certo non è visto che non può essere il discorso dell'etica perché non può essere il discorso dell'etica è che questo qua arriva mette i soldi fa un mercato diverso da quello che hai fatto fino adesso questo è quello che vogliono tutti ecco leggi cosa che ti scrive Sigourney come faccio sulla chat te lo leggo io l'Inter ha il secondo fatturato in Italia il quattordicesimo in Europa partendo dal nulla degli anni passati e questo lo si deve alla gestione ZANG giusto giustissimo alla gestione progettuale di ZANG attenzione e io tu rimettisci io non sono contrario a PIF da un punto di vista economico assolutamente assolutamente anche perché io a differenza di molti altri sono convinto che PIF continuerà sulla falsa riga di ZANG il problema che mi pongo è che molti tifosi dopo quattro mesi di PIF cominceranno ad essere PIF out perché questo non fa quello che si aspetta anche perché secondo te poi ti faccio parlare secondo te un fondo un fondo qui sta una società per tenere la vita ma aspetta 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 ecco speravo che mi facessi questa domanda ecco ti dico il mio pensiero e ti dico cos'è che voglio che faccia spero io non so nessuno spero che faccia allora prima cosa se arriva PIF non è un fondo speculativo come Elliot ma un fondo sovrano prima cosa e infatti OCTRI è un fondo speculativo spero che non venga mai OCTRI e spero che anche BC Partner sia più lontano possibile dall'Inter perché sono tutti fondi speculativi quindi non investeranno mai nell'Inter perché poi ci devono rientrare come farà Elliot con il Milan Elliot ha levato tutti i debiti dalle banche e venderà il Milan guadagnandoci i fondi sovrani non ragionano così ovviamente non è che ti buttano lì due miliardi per poi perdere ovviamente nessuno va a perderci però qual è l'obiettivo di un fondo sovrano a differenza di un fondo speculativo l'obiettivo io saprei il fondo speculativo ovviamente non è che te lo dico io però comunque tutti i fondi speculativi come 3 come BC Partners come Elliot del Milan fanno degli investimenti anche giusti perché comunque Elliot del Milan si sta muovendo anche bene ma l'obiettivo è lo stesso è a chi rendi conto che è diverso è a chi rendi conto che no no l'obiettivo è lo stesso è sempre guadagnare è a chi rendi conto che è diverso sì però scusatemi da forse in uno no in uno rendi conto a degli investitori attento bene in uno sei proprietario del tuo capitale ma l'obiettivo è sempre quello quando investi punti a guadagnare in economia è così non è che investi per farlo di sicurare una risposta tecnica a questa domanda visto che fondamentalmente Marcos ci stai arrivando però la risposta tecnica è questa l'obiettivo è lo stesso il guadagno ok sia di un fondo speculativo che di un fondo sovrano la differenza sta nella tempistica e mentre il fondo speculativo deve farlo subito deve ottenere il guadagno subito nel più breve tempo possibile il fondo sovrano non ha questa esigenza però ci deve sempre guadagnare ovvio come ti ho detto io ovviamente non ci andrà a perdere perché nessuno ci va a perdere l'investimento ecco però adesso ragioniamo su questo ragioniamo su questo ci deve guadagnare benissimo acquisti l'Inter a un miliardo sì ok forse anche di più forse anche di più perché Zang credo che se ha in mano qualcosa per lo stadio da un miliardo salirà una parentesi ricordiamoci che in Italia un anno e mezzo fa io mi ricordo del primo mese che si parlava di società che non pagavano stipendi dell'Inter di società appena successo i primi stadi chiusi società col cappello in mano in Italia col cappello in mano a chi ha dei diritti tv che venivano suddivisi tanto che questo è lo scenario della serie A sorvoliamo su questo io voglio voglio concentrarmi su l'operazione economica allora Piff acquista a un miliardo l'Inter io do per scontato che è tutto fatto che il 19 il 23 viene l'ufficialità quindi la paga un miliardo poi ci deve fare degli investimenti sopra perché altrimenti cambia cazzo quindi vuoi che ci metta su quei due trecento milioni o se no che cazzo la compra a fare mi tengo zango se non devo fare investimenti scusami io faccio un ragionamento economico ci metto due trecento milioni e quindi sono già arrivato a un miliardo e tre ok poi quanto cazzo la devo vendere l'Inter ammesso che i due trecento milioni mi bastano per vincere qualcosa e farla salire di livello a quanto la devo rivendere quest'Inter perché il fondo sovrano non ti resta a vita deve sempre guadagnarci e non ci può guadagnare in cinquant'anni altrimenti non è più un fondo se posso risponderti ovviamente la verità in tasca non ce l'ho ma penso che nessuno ce l'abbia io ti dico secondo me giustamente come avete detto voi visto che si è macchiato il principe di questo di questa cosa a questa persona che è stata ammazzata la cosa si dice in televisione ma penso che sia vera come lo dite anche voi quindi mi fido cioè nel senso vero lui vuole ripulire questa immagine con il brand dell'Inter come ha fatto Zhang con diciamo con la Cina cioè nel senso lui non si voleva ripulire niente però col brand della Cina lui ha fatto crescere l'Inter e lo ringrazio però sinceramente alla domanda che mi fai te non so risponderti nel senso io mi aspetto che Piffa arriva metta a posto i conti dell'Inter che è una cosa fondamentale sono già a posto non nel senso no che rifinanzia questo bond con gli interessi non all'8% come ha Oc3 con l'Inter perché all'8% secondo me bloccati bloccati perché stai dicendo un'eresia Oc3 non ce l'ha con l'Inter il finanziamento no ce l'ho capito 75 milioni sono per l'Inter e 200 no 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 i 75 milioni sono stati girati sono stati girati senza spese di interessi da Great Horizon all'Inter ok però cambia tutto voglio dire cambia veramente tutto da questo vedi questo è purtroppo l'informarsi no senza entrare nel dettaglio è un po' come quelli che leggono il titolo e non leggono l'articolo no allora il discorso è questo se dobbiamo parlare dei debiti dell'Inter ti dico che stiamo quasi a 400 milioni dei debiti dell'Inter e sono due bond e sono no sono quasi 400 sono due bond che arrivano non arrivano a 400 e sono in scadenza a dicembre 2022 però guarda caso Zhang sta rinegoziando adesso già per il 2022 il bond con un unico bond che va a sostituire quei due precedenti con scadenza quinquennale ora io ti domando ora io ti domando dimmi economicamente no se dovesse arrivare PIF no potenza di fuoco di PIF c'è bisogno di rinnovare un anno di rinnovare un bond che scadono un anno dopo con un anno di anticipo è una domanda per farti ragionare per farti ragionare su quello che può accadere nel breve termine poi nel lungo termine non lo so che cosa accade però io ho la stessa sensazione che c'ha l'APO no che fino a quando Zhang che non ha in mano il progetto dello stadio per poter chiedere un miliardo e mezzo l'Inter non la vende ma scusa ma Antonello ha detto che il progetto scusami Antonello Sala ha detto che il progetto dello stadio si parte finirà entro il 2027 progetto ma non c'è contratto allora tu hai idea di come funziona la burocrazia in Italia ti faccio una domanda Matteo o Silvio non so Matteo ti faccio una domanda quanti anni hai Matteo 94 sei 24 sei abbastanza cresciutello pensavo qualcosina in meno allora ti faccio questa domanda la burocrazia in Italia è molto lenta lentissimo il passaggio che ha fatto che è passato da qualche settimana al comune non è che è passato non hanno dato l'ok alla costruzione dello stadio hanno soltanto detto per noi va bene per noi va bene ma dovete fare questo 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 e quest'altro mettetevi d'accordo no in realtà scusami se ti posso ti volevo proprio chiedere questo ma parole di Sala non parole mie andate a leggerle parole di Sala non mie Sala ha detto in questo momento ma anche Scaronino ha detto dalla parte dell'Inter non arrivano garanzie ha detto Sala non l'ho detto io giuro vai a leggerti lo disse prima di parlare con Zang poi Zang è arrivato è uscito dal ricontro col comune è tutto a posto abbiamo avuto le garanzie che volevamo no aspetta no in realtà le garanzie le ha date un mese fa no 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 la date quando è tornato qui per festeggiare lo scudetto c'è stato un incontro eh me lo dirò si ma ne abbiamo parlato anche in live c'è stato un incontro e Sala uscì pubblicamente dicendo l'Inter ha dato le garanzie lo puoi trovare su internet lo puoi trovare lo puoi trovare allora perché si è aspettato c'è Zang che è venuto in Italia ad agosto no mi ricordo anche il comunicato dell'Inter dopo il comunicato di Sala perché c'erano le elezioni perché c'erano le elezioni esatto c'erano le candidature io ti voglio ricordare una cosa che l'Inter non è una società che fa molti comunicati ma quando il signor Sala se ne uscì con quella minchiata là l'Inter fece un comunicato dove pesantemente mi ricordo di prendere provvedimenti sulle parole dette da da Sala da quel momento in poi Sala è stato zitto non ha detto più una parola è arrivato Zang con Marotta hanno fatto un incontro presso il comune di Milano Sala ha fatto il comunicato dove diceva di aver ricevuto tutte le garanzie che il comune aveva bisogno per poter proseguire con il cammino del progetto Stato poi ci sono state le elezioni è stato rieletto e caso vuole che ha detto ok si fa lo stadio non ha proprio detto così ok si fa lo stadio ha detto per noi va bene ma dovete fare questo 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 e quest'altro e che per fare questo infatti lo spazzonello ha detto che c'è l'arriente dei progetti passeranno 6-7 anni per fare questo questo e quest'altro perché siamo in Italia siamo stati in Inghilterra avrebbero già costruito lo stadio e allora ti faccio un'altra domanda è più allettante acquistare una squadra in Inghilterra o acquistarla in Italia? è più allettante acquistare una squadra in Premier League ma non in Newcastle porto pazienza e chi te l'ha detto il Newcastle ti costa il Newcastle ti costa quanto ti costa la San Benedettese in Italia ma stai parlando di PIF però non stai parlando di Silvio Matteo ho capito ma PIF non è che ha 500 miliardi e li prende e li butta così cioè non funziona così però è uno dei tre fondi sovrani più potenti al mondo prende il Newcastle ma lo sai come li fanno i soldi? con investimenti figuri non buttando soldi a destra ma secondo te economicamente è più sicuro investire nel Newcastle o nell'Inter? allora posso dirti la mia ma non è che io ti dico la mia opinione sapendo niente ti dico la mia opinione secondo me per diciamo per l'immagine che ha l'Inter per i giri che possono fare loro a Milano per me può fare più soldi investendo a Milano secondo me hai detto una cosa giusta però no no hai detto una cosa giusta per l'immagine e per il brand hai detto una cosa giustissima per l'immagine e per il brand io voglio togliere il mito del fatto che arriva il presidente no? arriva il presidente e fa affari a Milano perché è presidente dell'Inter allora a questo punto tutte le case di Milano ci dovrebbero essere negozi su ovunque con le televisioni nei frigoriferi e Suning ovunque mai trovato un frigorifero Suning o volevo comprare un cazzo di frigorifero Suning non l'avessi visto uno cioè non funziona non è proprio così che funziona Luigi posso dirti una cosa ti faccio una domanda parlami del mercato immobiliare ti dico che Suning costruiva città intera pure quindi voglio dire posso farti una domanda ma io ti faccio solo un esempio Piff ha preso il 40% di Pagani ti faccio un esempio stupido sì appunto no ma ti faccio allora guarda ti faccio quello che hai detto è giusto i cinesi sono venuti con un obiettivo semplice lanciassi cioè usarti come trampolino è stato un qui pro quo sì esatto e per il marchio per lanciare il tuo brand l'Inter era la scelta esatto ideale ma ideale ecco per un fondo per un fondo di investimento qualsiasi sia speculativo sovrano privato pubblico come vuoi Inter Spa quello che vuoi non è proprio quello non è rilanciare il brand sì vabbè lavarsi la faccia davanti al mondo con lo sport è il cazzo che ti pare ospitano mondiali non credo che abbiano bisogno di comprarsi la squadra di calcio per lavarsi la faccia davanti al mondo a prescindere di quello ma non è l'obiettivo non ti dà stabilità non l'Inter la squadra Inter perché la squadra Inter certo che se te la porti tra le prime quattro d'Europa ti può far guadagnare ma è la stabilità stessa di dove milita l'Inter che non ti permette a un fondo del genere anche solo di prendere in considerazione sì magari di prendere in considerazione di mettersi al tavolino parlarne vede che non c'è un progetto come campionato come rilanciamento di campionato di diritti tv di un cazzo gli stadi sono bloccati e di sapete che c'è se io mi devo ritrovare a giocare la domenica una volta col Catania una volta avere problemi in infrastrutture perché gli investimenti non so solo poi facciamo lo stadio eh no a me mi interessa anche che gli altri facciano gli stadi mi interessa che ci siano le infrastrutture mi interessa che che la gente possa venire e interagire se te sei bloccato come paese e questo non me lo puoi garantire se non me lo puoi garantire te i soldi mia sul tavolo non li vedi anche perché almeno che mi interesse non sia un altro allora voglia anche perché scusami se ti interrompo Marco la signora Amanda non ha parlato di questa situazione disastrosa di Inter e Milan perché ti ricordo che ha detto anche che ha parlato con il Milan in questo famoso PIF quindi non ha parlato di situazione disastrosa di Inter e Milan ma ha parlato di situazione disastrosa del campionato italiano quindi è una visione un po' globale del fatto che non conviene a loro investire una tale cifra in una società così blasonata come l'Inter molto più conveniente è prenderne una e portarla ti faccio un esempio quando Zag ha preso a profilo di conti poi non è detto che non lo facciano per l'amor del cielo è un ragionamento economico questo non è che sto dicendo che non prendono l'Inter capiamoci però ti sto dicendo che economicamente è più sostenibile prendere una squadra che costa di meno e portarla più in alto e fargli raddoppiare il valore un po' quello che ha fatto perché l'investimento da parte tua è sempre quello cioè te investi sempre quello sia sul marchio sul brand che si posso capire abbia rigolanza però prendi il Newcastle se te prendi il Newcastle di turno come ti diceva lui prima l'hai pagato meno hai meno spese ci hanno state di proprietà sì ma a prescindere di quello ma il tuo investimento è sempre quello è l'investimento che tu avessi fatto anche se compravi l'Arsenal se compravi il Manchester United sempre quell'investimento lì avresti fatto il fatto è che quell'investimento lì su un brand del genere se non ti rende poi andan perdi poi la Premier League e prendila non ci vai e se lo fai sul mio cazzo aumenti il fatturato del 60% in un anno se riesci a salvarlo ma il discorso serio è questo stavo dicendo quando Zang è venuto all'Inter mi sapete dire quanto l'ha pagata l'Inter? 300 se non sbaglio 300 quello è l'investimento lo pago 300 adesso la vendo a un miliardo quello è l'investimento ok? non la pago la pago un miliardo e mezzo e a quanto posso arrivare? e a chi lo vendi poi? a un altro fondo sovrano? a chi se la vado a vendere? a chi se la vado a vendere? crei una squadra dal valore metti di un miliardo e mezzo davvero societario anche di introiti di sponsorizzazioni lascia perdere che poi anche questa parentesi a parte l'ipotesia che c'è nel fatto che quando le sponsorizzazioni degli arabi fittizi erano del Paris Saint Germain tutti scandalizzati sciagurati hanno rovinato il calcio basta ora si fa affidamento sugli stessi io ti ho sentito dire prima aspettiamo due o tre anni che tanto poi gli sponsor arrivano sì fittizi che ti girano i soldi poi quando poi si stanca fai la fine del Paris Saint Germain perché fino a settimana scorsa io c'era la gente ancora che si è incazzata quest'anno Sergio Ramos Bappé Wijnaldum Messi non sanno neanche più dove mettersi le punte è uno schifo il calcio è del popolo tutte minchiate poi fondamentalmente però poi tanto sottigliezze ci si dimenticano dall'oggi a domani Robby scrive l'ha pagata 300 e ne ha spesi altri 700 è per questo che ne vuole un miliardo allora tu immaginati Piff che la paga un miliardo e ne spende altre tanti per portarla no ma questo ti dicevo tu immaginati una squadra dal valore di un miliardo e mezzo di introiti di sponto lascia perdere che poi siano fittizi o meno in un campionato che però non si sviluppa non per infrastrutture per etici vorranno ma non perché non lo voglia fare attento bene non mi preintende ma per lentezza burocrati per quello che è il nostro paese si sa quello che ci vuole e poi che fai davvero a chi la rivendi una squadra di quel valore in un campionato del G cosa fai il Paris Saint Germain di turno ora prova a vendere il Paris Saint Germain in Liguana a chi lo vendi a chi lo vendi chi se lo compra forse io chi se lo compra il Paris Saint Germain in una squadra ma è come se tu volessi vendere sei l'unico competitor chi compete per te io vi voglio fare una domanda a tutti soprattutto a chi ci sta seguendo vinciate ma secondo voi foste voi piffa non siete interisti perché non siete interisti ok perché qui non mi dite che il principe è interista perché se no chiudo la live adesso potrei dimostrarti il contrario ma sì queste minchiate non le voglio sentire nemmeno nominare cazzo ne frega quello del calcio figurati dell'Inter sai nemmeno che cos'è l'Inter cioè che cos'è l'Inter concettualmente come la conosciamo noi quello non ha nemmeno la più palla di idea di che cosa sia allora il discorso è questo il discorso è questo foste voi il fondo piff foste voi Stobin Salam non so nemmeno pronunciarlo foste voi questo personaggio non ce l'ho con lui non lo so pronunciare proprio perché io con le lingue straniere Salman Salman ecco qua Salman forse lui Salman forse voi Salman o se no chiamalo principe forse voi sto cazzo di principe dei miei coglioni allora investireste a livello economico sto parlando a livello economico un miliardo di un miliardo di euro quello che cazzo è nel mio cazzo e quindi portarlo dove cazzo ci potete arrivare con un miliardo di euro investito nel mio cazzo o comprare una squadra che ce ne devi spendere oltre al miliardo che hai speso un altro miliardo per portarlo però vedi dipende da cosa vuoi fare io questa è la domanda che vi voglio fare no no ma infatti investendo un miliardo nel mio cazzo dipende da cosa vuoi fare se vuoi guadagnare che è il punto base di ogni fondo azienda investitore che si rispetti a prescinde e lo fai naturalmente in quella più di basso costo che tipo dà maggior rendita se lo fai come investimento per la tua immagine come trampolino di lancio cerchi magari altre cose la tiforiseria più grande il brand sì ma con un miliardo investito nel mio cazzo con un miliardo con un miliardo investito nel mio cazzo no dove lo quanto puoi guadagnare sponizzo eh tanto no no certo ma a prescinde questo che ti voglio dire cioè investire un miliardo nell'Inter vuol dire buttarne altri buttarne due almeno eh eh sì poi guarda io ti ho risposto così per non precludere un miliardo ti costa l'Inter e comunque se ce ne ha messi 700 Zang vuoi che lui non ce ne metta altrettanti? eh sono già 1700 ma da quando è arrivato ad oggi ne ha messi più di 800 più di 700 ma adesso non c'è questa necessità di mettere 700 e allora cosa cambia allora non c'è questa necessità di mettere no scusa non c'è questa necessità di mettere però mercato lo dovrei fare cioè se te compri scusa se te compri una macchina va bene io ho comprato un'auto a 300 euro ok ci ho investito 700 euro e te la vendo a 1.100 guadagnato 100 euro io mi sono bravo ok tu prendi questa macchina a 1.100 euro che fai? la tieni come è la rivendi a 1.100 o ci investi 500 600 euro e la rivendi a 2.000 si ho capito si no ma è normale però in questo momento l'Inter ha bisogno di qualcosa ma non ha bisogno fortunatamente di come quando era arrivato Zang secondo il mio punto di vista vabbè ma chi comprare mettiamola così secondo te quali calciatori ha bisogno ho capito ma allora ascoltami un attimo l'altro step che potresti fare qual è oltre a quello di aver vinto lo scudetto perché con quello che ha speso Zang no 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 perché qua bisogna parlare di risultati non mi interessa più la sostenibilità ho superato già la sostenibilità quello che voglio farvi capire no? allora Zang ha speso 700 per vincere uno scudetto e una finale di Europa League ora ok che cosa vorresti vincere tu? no vai 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 pura no no la domanda è quella non mi dire fra dieci anni perché fra dieci anni mi tengo Zang perché già arriva ok allora io voglio sapere ma arriva PIF quindi tutto questo entusiasmo per PIF che avete io non c'ho non c'ho nessun entusiasmo ma vorrei che arrivasse da quel punto di vista ok quindi la mia posizione è questa chi è che non lo vorrebbe da un punto di vista economico lo sottolineo sempre no? io mi faccio problemi etici però davanti al bene economico dell'Inter mi tappo il naso le orecchie e la bocca no? da questo punto di vista però ripeto che cosa vorresti tu? perché è la stessa cosa che vorrei io cioè non è in questione la Champions la Champions e non mi dire e non mi dire che per alzare la Champions insieme allo Scudetto e la Coppa Italia ti basta soltanto aver acquisito l'Inter no se ti posso rispondere secondo me se posso dirti la mia da ignorante allora ti faccio un esempio perché secondo me si fa un confronto che non sta in piedi allora quando è arrivato Zhang doveva investire molto di più perché la squadra con Tuira era parecchio scarso secondo me quello sì aspetta ora grazie a Zhang la squadra è diventata secondo me oggi come oggi ancora la più forte in Italia secondo me è la più completa dico la mia secondo me quindi oggi dovesse arrivare il pif bastano due o tre elementi alla squadra per farla diventare competitiva anche per vincere la Champions League secondo me bastano due o tre elementi e cosa ti fa pensare che Zhang due o tre elementi non se le può aggiungere bloccati 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 è la più competitiva in Italia secondo me secondo te pure secondo me lo è tuttavia tutti gli investimenti di Zhang non ci sono più dal punto di vista dei calciatori Hakimi Lukaku Joe Ovalio qui è il gruppo il gruppo che si è creato secondo me e chi l'ha creato no ti dico e adesso sicuramente salterete su dalla sedia ma il mio pensiero scusatemi ma io la penso così e penso che ho il diritto di pensarla così l'Inter col gruppo che adesso anche l'Inter oltre sarà più forte anche il gruppo più forte più coeso grazie ad Antonio bravo ma io ti faccio un applauso guarda io ti faccio l'applauso per questa affermazione qua qui trovi terreno fertile su questa cosa trovi terreno fertile però la domanda nasce spontanea è chi mi ha portato Antonio Conte no ok ma infatti il mio nome è Mika Sunigauto nel senso io mi chiamo cioè no ma sono comunque investimenti che dovrai rifare nel senso è questo che vuole dire sono investimenti l'Antonio Conte di turno o il eh ma sono investimenti che vorrei fare se vorrei competere in Europa perché di questo stiamo parlando perché se voglio competere in Italia e essere competitivo in Italia parliamoci chiaro Zanga le due o tre pedine che servono Marotta teleporta uguale tranquillamente e tranquillamente arrivi all'ottava in Champions tranquillamente io non capisco questo accadimento per arrivare a dove non su questo io ti dico la mia opinione su questo che lui può avere cioè lui può portarmi ad uno o tre giocatori funzionali e cioè diciamoci un cambio alla Dzeko perché purtroppo Dzeko se ne esca un paio purtroppo la società che arriva io cioè se tu hai le tue convinzioni io spero che tu abbia ragione che no ma no no allora aspetta non so convinzioni non so convinzioni però se devo giudicare il lavoro di un amministratore delegato che è Marotta e fino a che ci pare o che ci porta il colpo è santificato quando poi si parla di no io non è che mi fai io giudico quello che vedo sinceramente se mi devo avere fiducia in più un pensiero mio che Marotta sinceramente ho più fiducia nella professionalità di Marotta ma della società stessa che ti ha portato ma della società stessa e del management che ti ha portato al finale d'Europa League ti ha fatto vincere il campionato ti ha portato dal settimo posto a paragonare un gruppo come questo a uno dei migliori in Europa non a caso cioè io boh non so che cazzo volete chiedere più una proprietà a livello sì economicamente ma giustamente questo io sono d'accordo pure io ripeto a me se mi arrivasse domani la proprietà che dice mi permettano prima di tutto ma sento bene di poter investire e fa come tra virgolette come voglio con progetto serio cioè di dire anche lo faccio in tre anni lo faccio in un anno lo faccio in sei mesi perché ho la possibilità di buttare tre miliardi sul tavolo del venga se hai un progetto cioè d'accordissimo niente in contrario non capisco però tutto questo questa facilità come siamo passati da l'accettazione all'out al quello è meglio di quello con che valori professionali con che cazzo d'autorità uno dice quello non sa far il suo lavoro quell'allenatore deve essere noi siamo tifosi i nostri discorsi da bar hanno il peso da bar e lo sai perché? perché se io parlo d'economia a parte la terza quarta commerciale non c'è un cazzo per parlare d'economia i rudimenti basi come funziona un investimento certo ma se no lascio perdere cerco di capire da chi è il suo pane quotidiano e ti assicuro che se guarda che te lo puoi dire Luigi che è commercialista se te chiedi di questa situazione finanziaria a 5 commercialisti diversi ti dicano 5 cose diverse su una cosa concordano tutti però beh certo è conveniente acquistare una squadra a 300 milioni spendercene a 700 per poi riprenderla dopo rispondi no no ma io ti dico proprio come affronterebbero la cosa finanziariamente come affronterebbero la cosa ti direbbero tutti posso solo dirti una cosa che ci tengo a dirtela no perché poi sembra che io sia un matto scatenato che scutto sul piatto dove abbiamo mangiato no ma meglio se posso se posso allora io Zang lo ringrazierò per sempre per la penitina ha fatto un lavoro stupendo stupendo ci ha portato uno studetto ci ha portato a finale di Europa League ha fatto investimenti ha portato una società grandissima e ha portato secondo me uno dei più grandi allenatori che Antonio Conte quindi io ho solo da ringraziarli no no ma ti fermo un attimo concludo dicendoti una cosa andando via Conte lì è già ridimensionato un casino il progetto porta pazienza non voglio dire che in Zag ma sono d'accordo ma sono d'accordo ma anche andando via Conte purtroppo io ho già capito che il progetto era già ridimensionato questo siamo d'accordissimo ma infatti guarda ti volevo fermarsi un discorso di riconoscenza perché non è rimasto Conte no ma ad agosto Conte no ma dicono che era già in trattativa lascia perdere cosa dicano il problema è deciso è chiaro voglio agganciarmi un attimo a quello che dice Blind ma perché secondo voi no questo Piff ha acquistato l'Inter adesso a novembre ma no sicuramente sono trattative partite da magari da settembre-ottobre anche prima no io ti dico che si è parlato la prima volta di Piff ad aprile dell'anno scorso ci vogliono 12 mesi solo per fare una revisione dei conti no no sicuramente però cosa è che è stata già fatta con BC Partners giusto per l'acqua però ascolta però una cosa volevo anche dirtela che Mattia Nerozzuro secondo me dice una cosa giustissima adesso ci arrivo adesso ci arrivo adesso ci arrivo però no no però nel senso volevo dire poi ho visto che l'ha scritto lui quindi l'ha scritto lui quindi dice Mancrab secondo me è giustissimo lo penso come lui è una cosa un po' strana cioè non ho mai poi magari se andiamo a vedere qualche squadra ci avrà anche un contratto di un anno però a me puzza come cosa sinceramente poi ci manca io non so nessuno io spero cari di Piff ma io adesso ci arrivo perché l'ho visto il commento però volevo prima ho messo in sopra pressione quello di Cristian perché volevo parlare di quello che dice Cristian e poi arrivo a rispondere a Mattia il calcio il calcio sta cambiando oggi più di ieri Piff è arrivato in ritardo all'Inter secondo me è arrivato in ritardo è vero è arrivato prima Zang ormai l'affare l'affare da un punto di vista economico per l'Inter l'affare Inter ce l'ha Zang in mano e ce l'ha in mano l'Inter la può rivendere veramente a cifre che contano solo dopo avere in mano la prima pietra dello stadio quando c'hai l'ok definitivo per poter fare lo stadio la puoi venderlo alla cifra che vuoi la puoi fare l'affare ora come ora non lo vedo come un affare conveniente Piff è davvero in ritardo da questo da un punto di vista economico sull'affare Inter e lo capisco se fa un passo verso come si leggeva su una squadra di una serie inferiore la ci potrebbe essere un affare perché la prendi una squadra di serie inferiore la paghi quattro soldi ci investi quello che hai investito per acquistare il Newcastle e la rivendi a tre a due volte il soldi quello che hai speso portandola dove la devi portare la può essere un investimento che ha un senso l'olio dal punto di vista economico un investimento come chi allora io dico queste cose e faccio questi ragionamenti economici perché la cosa che mi spaventa veramente più di tanto ma veramente mi spaventa è l'illusione l'illusione che i tifosi stanno facendo intorno a questa situazione prima c'era qualcuno se non sbaglio era stato Florio che ha scritto più soldi hanno più vogliono guadagnare è vero è vero è la sacrosanta verità uno più soldi ha più ne vuole guadagnare è così che funziona in tutto il mondo è così non è che gli arabi sono un'eccezione gli arabi un giorno si rendono conto che hanno guadagnato di meno del giorno prima aumentano il prezzo del petrolio ma poi loro sono competitivi guarda la storia del grattocero più alto del mondo sono d'accordo ma sono d'accordo si fanno la guerra tra di loro ma fossi fossi io fossi io con quella mentalità dove vado a comprarmi una squadra dove sono già presenti i miei diretti avversari mi compro il Palermo mi compro no ma mi vado a comprare una squadra dove sono presenti i miei diretti avversari da un punto di vista economico e gli sbaccio in faccia i risultati perché là mi faccio la sfida non che io mi prendo una squadra che sta in Italia non dico l'Inter una squadra ma che con quelli non hanno nulla a che fare però la sfida la fai a livello europeo poi di sono sfide ma a livello europeo ci vuole tempo no no ma dico societari cioè sono sfide quelli sono gare a chi piscia più lontano dai cioè ragazzi sono nemmeno i catarioti quanto hanno investito nel PSG e che cosa e che cosa hanno ricavato dagli investimenti nel PSG cioè ragazzi attenzione a queste cose o il calcio sta cambiando è vero che sta cambiando si va verso l'autosostenibilità del calcio si va verso quell'obiettivo là e non ci piove cioè o gli fanno fare ma non perché gli piaccia non perché gli piaccia tanto bene ma non perché gli piaccia perché è necessario perché si sono resi molto inevitabile perché altrimenti il calcio non giocherò in tre cioè voglio dire è questione quindi se siccome la maggior parte e quando dico la maggior parte intendo dire il 99% delle società ha gli stessi problemi si deve invertire la rotta si deve invertire la rotta c'è niente da fare ora sono due soluzioni sono due soluzioni o gli fanno fare una superlega che gli garantisca quell'introito annuale che serva alle società per autofinanziarsi oppure devono trovare il modo per autofinanziarsi e più cresce il valore della squadra e più si devono autofinanziare cioè se una squadra il PSG faccio un esempio spende 600 milioni all'anno no? deve arrivare a fatturare almeno 600 milioni altrimenti non ci stai dentro non ci stai dentro cioè vabbè ma ci sono i catarioti così come sono fettizi sono di tasca tua eh però ma ci sono i catarioti ma i catarioti non ci saranno per sempre e quando andranno via i catarioti no? del PSG che cosa resterà? i bilanci e i monti questa è la riflessione che voglio lasciare a tutti coloro che sono illusi sono illusi dall'arrivo del di PIF che per carità lo voglio anch'io cioè chi è che non lo vorrebbe? chi è che non lo vorrebbe? no? però attenzione non vi illudere io questo vi chiedo cioè sosteniamo sogniamo tutto quello ma non ci illudiamo perché le illusioni poi ci portano alla depressione inevitabilmente allora è meglio volare bassi non anche perché rischi di ripiangere eh cos'è la cosa che ci hanno sempre insegnato quando andiamo a fare qualsiasi cosa nella vita step by step piano 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 allora anche nel sognare sogniamo piano piano cominciamo a pensare così sogniamo piano piano non sogniamo di poter avere il grattacielo se ancora non ci possiamo pagare una casa in affitto e questo è il discorso non ci sogniamo di avere lo yacht se non possiamo noleggiarci per un giorno la barca per farci una pescata e questo è il concetto non andiamo ad accendere un mutuo se non possiamo pagarlo su tutte le cose bisogna fare le cose step by step un passo alla volta sono pure l'inglese l'unica parola ma anche perché è un investimento talmente grosso davvero che in un contesto del genere spaventerebbe dopo ma spaventa perché io in un contesto del genere dico anche a livello di sviluppo di tutto di campionato di altre società insomma spaventa è un investimento grosso dopo c'è da investirci sopra ma tralasciando tralasciando il discorso etico io vi do una chiave di lettura per cui dovreste essere favorevoli a PIF tralasciando il discorso etico però tralasciando il discorso etico e ipotizzando una gestione alla ZANG alla ZANG il perché vorrei PIF è perché alle spalle ho una solidità economica che in questo momento storico in questo momento storico mi permette di stare tranquillo ok però parto dal presupposto che uno tralascio il discorso etico e due mi continua il progetto step by step che aveva iniziato ZANG ma hai risposto a Mattia o mi sono assentato adesso ci arrivo adesso ci arrivo Mattia come mai lo sponsor social porta social porta 20 milioni all'anno ha un contratto di un solo anno con la clausola di uscita uno sponsor che hai davanti sulla maglia sponsor principale allora io ti rispondo innanzitutto tu hai la certezza matematica che lo sponsor social sia solo per un anno aspetta posso posso perché se si Mattia c'è il mio contatto su facebook mandano mandami la la certezza matematica che social sia solo per un anno io non ce l'ho questa certezza posso dirti una cosa quindi non lo so la ignoro la ignoro ora vai dimmi Mattia posso dirti no nel senso questa cosa qua l'ho sentita anch'io però ti dico una cosa da cosa so io ha un contatto quinquennale ma se un giorno domani mattina arriva uno sponsor e te ne dà 25 lui si fa da parte allora è diverso è diverso perché io ti blocco è diversa la cosa perché questo è più o meno quello che mi ricordavo io è la stessa cosa che c'era a Lenovo è la stessa cosa che c'era a Lenovo chi me l'ha detto no è una cosa che uscì quando arrivo i socios ora io ora qua da qui a dire che c'è un contratto per un anno vedi come cambia tutto il discorso è diverso è diverso è dire arriva uno sponsor che mi dà 21 io mi faccio da parte perché non voglio dare più di 20 anche Lenovo aveva una clausola del genere che se arrivava uno sponsor che ti dava di più lui passava alla manica invece che stare dietro capito quindi questo è il discorso quindi Mattia se tu hai un documento qualcosa anche un sito mi basta anche un sito che sia attendibile però nocazzabucola.it un sito che mi afferma che ha che il socios ha un contratto di un anno ok alzo le mani perché io non lo so non ho questa certezza quello che so è quello che abbiamo letto tutti nel momento dell'acquisizione di socios e non è tanto distante da quello che sta dicendo l'amico Mattia ovvero che è un contratto quinquennale con la clausola che nel caso dovesse arrivare qualcuno che spende di più si fa da parte senza io a me hanno detto così poi magari una stronzata no ma guarda magari sarà una stronzata però è quello che è uscito su tutti i giornali quando abbiamo preso socios come sponsor quindi non lo so se è una stronzata magari Mattia ha in mano dei documenti ufficiali che dicono il contrario io non lo so però Mattia in quel caso anche se non li puoi divulgare se sono dei documenti top seed resta lo tramette però mi convinci e io ti dico hai ragione tutto qui quindi dipende no io Luigi se posso dirti la mia su socios sì io mi hanno detto così cioè io non sapevo neanche che c'era cioè io l'ho saputo così quindi non so direte se ho ragione o no ma io l'ho saputo così l'unica cosa è che mi fa un po' strano mi fa un po' strano ma so già che voi su questo punto qua mi dite che sono fuori strada ma va bene io la penso così lo sponsor che c'è sulla parte sul braccio dei giocatori sul digitables a me quello sponsor lì mi fa strano perché comunque diciamo che il gioco d'azzardo tra virgolette in Cina è bandito però ti ripeto so che voi su questo punto qua non siete d'accordo in Cina ma noi siamo europei è diverso eh lo so però comunque è sempre un no non è la stessa cosa no non è la stessa cosa aspetta se posso finire è sempre un sponsor che ha portato Zang ma non vuol dire nulla ho anche letto che questo sponsor qua ha delle quote anche il principe il fondo non il principe il fondo e ci avranno quote dappertutto che c'entra non c'entra niente il pifo non pifo però ti dico è una cosa che mi fa un po' strano come dici allora il McDonald's non dovrebbe aprire in India perché macellano vacche dalla mattina alla sera dai su eppure se vai a Nuova Delhi dice il McDonald's ma io lo sapevo già che dicendini poi mi danno pollo magari però nel senso no io lo sapevo già che mi davate conto però ho voluto dirlo ma non è che ti diamo contro noi siamo al assolutamente al confronto però ecco cioè non l'idea mi fa strano come mi fa strano altre cose che ho pensiero che più fa riva tra l'altro il unico Gobbo mi ha girato ora poi se vuoi Luigi te lo giro anche in privato se vuoi che c'è un giornalista inglese non so se è affidabile lo dice poi magari mi dice eh ma chi è non so cioè me l'ha girato lui non so se è affidabile non so se una fake news andrò a vedere prima di dirlo andrò a vedere perché poi magari è una fake news ha detto che Piff entro novembre vuole prendere l'Inter o non so se sia una fake news non so se questo qua è un cazzaro non so niente vado a vedere se c'è qualcosa contro la regione privato ve lo so di dirci questo tutto lì basta controllare chi è la persona se ha un profilo verificato è un profilo su twitter vado a vedere è verificato è verificato il profilo gira gira voglio dire allora non mi fiderei se i profili non sono verificati allora io vi dico una cosa io quello che voglio smitare è il concetto che noi siamo contrari a Piff quindi noi siamo spettatori curiosi quindi non è che si taccia tutto ma scherzi per carità che si faccia il bene dell'Inter quindi voglio dire però sono titubante da un punto di vista economico mi segui con questo non vuol dire che non viene per carità voglio dire però fatemi vedere siamo qua ad aspettare come state aspettando voi con la differenza che noi aspettiamo senza credere senza credere alla certezza matematica che possa avvenire stiamo aspettando guardando la situazione reale giorno dopo giorno gli ho chiesto di andare a vedere se è verificato gli ho chiesto adesso gli ho chiesto di andare a vedere se è verificato e mi farà sapere ti posso dire una cosa una battuta però ma già che te lo mando un gobo cioè dovresti verificare come il gobo e poi e poi pensare a no dovresti verificare prima il gobo però va bene noi Paul Fox l'abbiamo verificato Paul Fox per esempio è un gobo è un gobo però è verificato ormai sono tanti anni comunque Luigi Damian è incavolato con te perché ha detto che non leggi solo i suoi messaggi cazzo Damian dai potevi salire potevi salire sui live Damian il link c'è quindi c'è voglio dire la situazione è tale in cui fa il prezzo l'acquirente l'acquirente fa sempre il prezzo però bisogna vedere se l'altra parte è decisa a vendere o meno allora altra cosa che crea un fondo che arriva a a perdenti scusate me lo sto leggendo un cazzo a perdenti quando stai capendo che ti mette interessi esagerati a prenderti quando ti mette interessi esagerati ma ma lo dicevano prima è un fondo speculativo come puoi ripagare il debito in quale vita ok ma secondo me è molto più probabile che Ocatri in questo momento poi stiamo parlando sempre fra siamo fra due anni poi parliamo sempre fra due anni è molto più probabile in questo momento che Ocatri possa esercitare il suo diritto di di pignoramento di alcune quote dell'Inter piuttosto dell'Inter perché c'è dubbio in questo momento storico poi non lo so su questo posso dirgli la mia ecco su questo proprio non sono d'accordo ma niente con te Ocatri non ha secondo me per la storia che ha loro per le storie di investimenti che ha loro sanno benissimo che nel calcio ci vanno solo a perdere l'Inter con Ocatri ha solo un problema non lo vuole non vuole neanche avere il 30 non vuole avere niente a che fare con l'Inter e perché ce l'ha messa allora quindi aspetta 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 quindi prima che finirà il pegno magari di due anni per me arriva prima qualcun altro però metti caso che fra due anni lui ha trovato il compratore per l'Inter questo e non è pifo però ma poi siamo d'accordo se però come diceva lui cioè che quello che poi esercita il 20% dà codissimo è un fondo speculativo lui ora la sumossa l'ha fatta lui ora sta come un avvoltoio e aspetta la pifo al massimo ma è normale il giorno stesso ascolta il giorno stesso ha impegnato i soldi il 20% della società sa già a chi rivendelo nel caso lo dovesse esercitare certo ma è un cioè al massimo gli hai dato un socio a Zanga che non sei te e l'hai rivenduto al pezzo più alto di quanto l'hai presa questo è un fondo speculativo no no su questo però io non sono d'accordo però io non ho la verità in tasca non ho nessuno ma questa è la mia idea guarda un po' su quel po' che posso guardare gli investimenti che fa Oc3 no scusami gli investimenti che fa Oc3 no nel senso i movimenti che fanno loro i movimenti che fanno loro sono investimenti non ti dico sicuri ma garantiti da copertura perché hai soldi di azionisti eh no appunto se io prendo un 20% di una società come l'Inter ok e impegno dei soldi che poi prima di tutto non è che l'ha impegnati proprio per l'Inter l'ha impegnati perché c'era un certo Steven Zag che poi ragazzi problemi di liquidità quanto si vuole quando hai un patrimonio del genere problemi di qualità ce li puoi anche avere ma non veniamo che c'ha le pezze al culo perché c'ha un patrimonio patrimonio che non ti dico a Piff li si sta al culo ma giusto perché c'ha il petrolio per esempio per esempio vedi Giallo prima ha detto io vorrei Piff solo per non vedere una trattativa come De Paul fallire quindi vorrei Vlaovic De Paul Van de Beek con Piff li prendi sicuro stiamo già parlando di un mercato stiamo già parlando di un mercato da 130 140 milioni Mattia ha scritto il nome di quella persona lì su Twitter quella persona questo in blazer però datemi tempo perché sto indietro con i messaggi poi mi cazzia è lui blind poi ti facchiano è certo perché sono quella che non ci vede ma leggi i messaggi che lo dico mi sento in un tempo reale stavosa la devo capire come è possibile e Marcos quante cose devi capire la vita quanti giri fanno a box che cazzo solo è mindfulness che cazzo traduci in italiano per favore io con l'inglese non vado d'accordo non mi fa per aprire google translate ma Damio scrivimi che cazzo vuol dire mindfulness che cazzo vuol dire ti voglio bene Damian sappio i risultati fanno la differenza anche nel tifare vedi scudetto vinto e sti cazzi Fabrizio cioè qua abbiamo vinto lo scudetto e qua vogliono cacciare la proprietà è contrario dovrebbero essere entusiasti non è che vogliamo cacciarla è già stata cacciata ha già venduto ha già venduto no Luigi parlane come un libro stampato parli come un libro stampato no parlane c'è scritto come un libro stampato completamente ah complimenti parli volevo dire grazie se hai capito bene grazie ah me l'ha scritto sotto ok se tu fossi un politico ti voterei l'ho fatto per un po' di tempo politica ma dietro come dire non in prima linea con il tuo ragionamento Luigi se ti trovi dal Brasile all'Adriano di turno in tre anni ti trovi per via al cento per cento se voi siete contenti di questo io no non ho detto questo ma io non ho detto questo assolutamente non ho assolutamente detto questo io parlo di quando parlo di auto di autofinanziamento io parlo di di ampliare i ricavi del brand cioè questi qua hanno fatto una crescita del marchio dell'Inter dei ricavi dell'Inter senza vendere un calciatore cioè paradossalmente nel momento in cui i ricavi sono crollati hanno dovuto vendere alchimi ma questo è stato questo che non capisco la facilità è disarmante con la quale si cancelli una cosa che tra virgolette guarda io non critico le posizioni non voglio passare come quello che critica per l'amor del cielo io ti ripeto se venissero ma ben venga ma voi pensate solo non è quello adesso gli stati sono riaperti quindi metti che potresti guadagnare di nuovo 60-70 milioni esatto c'è da una parte hai guadagnato di più hai guadagnato di più con gli stati al 75% guadagni di più che averli al 100% certo ha aumentato i prezzi è normale spiegatemi spiegatemi perché si le parole di facciata per accontentare i tifosi ma perché i cinema hanno il 100% e gli stati ne hanno il 75% in più in più se passi il turno di Champions hai altri 40% e siamo già a 100% no ma 110% non solo per quanto ti possa piacere o no questi non solo ti hanno fatto vedere qualcosa ti hanno fatto riassapronare uno scudetto ti hanno fatto assopronare un gruppo e un progetto che se non ci fossero state deflizioni economiche era lanciato verso verso essere il numero uno almeno in Italia sicuramente e potenzialmente tra i migliori 10-15 in Europa sono andato largo io ti parlo di quando l'hanno preso ora va benissimo io capisco il ragionamento non critico la cosa di va bene uno ci può da più tra virgolette stabilità finanziaria liquidità in questo momento da poter chiudere tante trattative che ci siamo lasciati sfuggire o da poter far eh sì sì ma allora vale davvero la candela tutto questo accanimento e questa facilità con la quale da un giorno un altro è quello che non capisco vale davvero no non vale davvero perché a me mi sembra che si abbracci un po' tutto troppo a braccia aperte come se niente fosse io voglio continuare su discorsi economici perché sono quelli in cui sono un po' più competente e quindi voglio continuare qua Mattia dice ma sapete cosa vuol dire prendere l'Inter fare lo stadio di proprietà attorno a fare un verde fa contento l'amico Renzi e si buttano sull'immobiliare fanno soldi a go go ok io ti rispondo semplicemente che Zhang già sta nell'immobiliare Zhang in Cina costruisce i mentropoli da zero da zero quindi quindi è già il suo campo deve inventarsi il campo è già quello il campo non è che che vende soltanto le frigorifere e i televisori i sumi vende frigorifere e i televisori il gruppo Zhang fa anche altro poi cazza che è che cazzo vuol dire poi dici che non ti leggo Damian Damian ma che ragionamento è a chi mi lo vorrebbero tutti ok ah state parlando tra di voi sì ma infatti dovresti andare più giù vai alla fine ok ma io e poi dici se vado alla fine dice che lo sa ho capito ah Luigi ti do un'anticipazione lo stadio sullo stretto si chiamerà madonna se stai indietro solo i miei commenti non li è indietro sì sì sei proprio indietro come smiti tu nessuno mai ah grazie questo vuol dire il full mindful passion ma come cazzo è ha fatto un video dove dice piffa il novembre chi è quel giornalista di cui parlava Matteo ancora non abbiamo capito chi è vabbè ma ci sono tanti che fanno video dicendo no ma un giornalista in ingrittura non è proprio un ultimo deficiente un giornalista ma io voglio vedere se allora però Matteo io non credo che chi dica allora ragazzi io ma nessuno è l'ultimo deficiente che nemmeno chi dice chi dice che piffa arriva a novembre c'è un canale di youtube per me è un deficiente assolutamente vabbè ma se te lo dico io mi dici chi sei te sei l'ultimo deficiente ma non mi permetterei mai cioè nel senso ho capito ho capito però lo penserei ascoltami ascoltami io non mi permetterei mai di dire ma pensi scusa se te lo dicesse io penserei la stessa cosa ragazzi ragazzi posso fare i nomi dei canali che stanno portando avanti questa battaglia e che io non reputo assolutamente dei deficienti spiego pure perché non li reputo deficienti ci vuol coraggio praticamente i due canali che stanno facendo una battaglia con questa novembre dell'Inter sono gli esonerati e il VAT ok ma io io credo e lo spero per loro che sia così che abbiano in mano delle cose certe per dire PIF arriva a novembre ok me lo auguro per loro ecco perché io non credo che siano dei deficienti no? perché se no si giocherebbero tutto perché io mi immagino se arriva il primo dicembre e PIF non è arrivato mamma mia se dimaggiano cosa dovranno dire a chi in questo momento a a a chi hanno creato delle aspettative in questo momento ma a chi già adesso rimassagra al minimo andrei io a prendere la mia la fonte che mi ha dato la certezza e lo riempirei di schiaffi oppure lo prenderei per l'orecchio e ti ho detto adesso vieni qua e spieghi tu che cosa mi hai fatto dire no? quindi io sono certo che siccome sono persone dotate di intelletto no? abbiano delle certezze per dire una cosa del genere quindi io non sono nessuno per dire hai torto ok? non sono nessuno io posso solo dire aspetto e vedo in questo momento posso valutare il perché, il per come che cosa farei io ma sto dando un'opinione ok? quindi è importante questa cosa cioè non la sottovalutiamo io non mi permetterei mai di dire Matteo tu che dici sei un deficiente perché dici che PIF viene non mi permetterei mai ma perché non lo posso fare? perché io non ho la certezza che non viene mi segui? non ho la certezza che viene ma non ho neanche la certezza che non viene quindi sarei io un cretino a dire sei un deficiente perché dici che PIF non viene sto ad aspettare sono un curioso spettatore solo che sarebbe una cosa intelligente da parte di tutto il popolinterista essere un curioso spettatore ho letto una cosa che non posso commentare e non essere un portatore sano di verità inventata non posso commentare in back commento va bene l'ho visto, ho visto, ho visto l'ho visto allora Paul Fox tu hai smascherato una persona che si fa chiamare madonna se stai indietro quei messaggi eh no però questo mettere ma Luigi scusi un attimo no scusi un secondo perché voglio solo chiedere una cosa io ti ho detto quello perché voglio solo capire solo capire una cosa perché io adesso leggo un messaggio di Angelo Mario Mario Floridi chiedo scusa il ragazzo che parla dici di non sapere ma pretende di fare opinione non capisce che seguendo gente non si era contribuisce a creare un clima tossico ma lui non ha detto Matteo non ha detto che segue qualcuno e va dietro loro no volevo capire se ce l'aveva con me e penso di sì no ma spero che mi risponda voglio capire vedi perché poi per quello che ti dico che a volte qua dici la tua ma arriva gente che ti dice che hai voto spari cazzate che sei di chissà chi e pretende di fare opinione siamo su YouTube prendila per quello che è allora Mattia considera che io sono Matteo 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 perdone io sono il buzzurro volgare poi sono stato cicciobello poi sono l'amico cioè così YouTube è questo è passata per trance la blind è passata per trance se dobbiamo prendercela perché uno ci manda a fanculo non stiamo proprio su YouTube no ma hai ragione però tu visto che dici io non mi permettrei mai di dite che sei un deficiente noi stiamo parlando così nessuno ha fonti cioè tu magari qualche fonti ce l'hai più di me sicuramente io non ne ho e quindi stiamo parlando tra di noi cioè non è non capisco sta cosa comunque vabbè ci mancherebbe ognuno pensa io non voglio far cacciare nell'Inter ci mancherebbe anzi io amo l'Inter l'amo più di mia moglie quindi tra di te oddio qualcuno è un altro ma è così cioè mia moglie quando mi dice ma tu mi ami sì mi domanda più dell'Inter ma non fa allargare bella mia è così che si ragiona mi piace il tuo discorso Mattia bravo ma pensate se io da donna devo sentire questi discorsi eppure amo l'Inter è arrivato è arrivato dalla finestra ti lavo è arrivato sei riuscito a prendere la mira che io non riesco a prendere un giocato grande hai la solidarietà di blind ma devi specificare una cosa no vabbè adesso no dopo dopo specificare una cosa che questa domanda ho mutato l'ho silenziata perché mi aspettavo di peggio invece puoi dire devi specificare una cosa che questa domanda te la facevo almeno otto anni fa ormai non me lo chiede più ormai si era assegnata ormai si era assegnata poverino pure il bello è che c'ha pure una figlia interista c'ha la figlia interista che gli dice pure la stessa cosa ecco io ti amo però l'Inter è la stessa cosa c'è l'Inter e l'Inter cioè ragazzi ma perché il problema è che mia moglie è un interista di riflesso nel senso che è costretta ad essere interista se no non se ne ha potuto un cazzo il calcio però è costretta ad essere interista perché per vivere in questa casa devi essere interista altrimenti non puoi io sono un po' diciamo come dire si sono peggio di Bin Salam Salam Alec o consiglio di tagliare le mani si discute ma insomma che cosa mi dici qual è il commento che non volevi commentare no non posso ma dimmi di chi è almeno di Mattia di Mattia Mattia Nerazzurro di Mattia Nerazzurro ha cercato di fregare anche me lasciamo stare ma vabbè no però non parliamo di no infatti non fate i dissing i dissing ragazzi i dissing non servono a niente allora se avete delle cose contro qualcuno agite nelle sedi opportune però andare cioè youtube non è un tribunale esatto e poi il solo parlarne il solo parlarne secondo me porta un vantaggio quindi no ma poi io mi chiedo una cosa perché se non vi sta simpatico una persona andate ad ascoltarlo cioè poi altra cosa fondamentale alla fine cresce e resiste per la vostra presenza Luigi ascolta io ti devo salutare che domani purtroppo mi devo essere presto vi ringrazio Matteo deve andare a messa oh deve andare a messa Matteo vedi che vedi che si arriva vedi che si arriva a piffa a messa non ci vai più ha fatto già il nuovo gadget a Yem Corano si chiama grazie a M Corano scherzi a parte Matteo quando vuoi salire lo sai qua si discute poi magari ci si può pure mandare a fanculo perché il bello della discussione è quello il bello della discussione è quello mandarsi a fanculo però dopo poi ci andiamo a fare una birra dopo gli stiamo andati a fanculo è quella la cosa bella grazie di tutto Luigi grazie a te ciao Matteo buona notte ciao Matteo grazie a te ti riferivi a quel messaggio là allora no vabbè allora non mi interessa quel messaggio là mi ha fatto scendere giù per cercare di staccarsi no no era più su quello a cui ridevo però te lo dico dopo questo è questo io sono d'accordo con Paolo Dario è un poeta un maestro della narrativa ogni tanto mi fa bene la mano ma è bello ascoltarlo cioè ragazzi allora forse qui in mezzo quello più titolato a parlare di Dario so io visto che ci collaboravo con Rivoluzione Interista poi abbiamo avuto una collaborazione anche parallela diciamo che tutti questi canali sono una branchia di interforpension perché poi sono usciti tutti da qui da qua sono usciti mamma mia che danni che abbiamo fatto al web scherzo mi voglio bene tutti no però però è vero quello che dice la vita cioè Dario ragazzi è un incantatore alla favella cioè poi quando scazza devi chiudere sparisce poi sparisce per un po' però ragazzi c'è Dario sa comunicare a modo suo lui dice ah ma sì ma i messaggi dei video lo prendono per il culo ok ma anche quello è un modo di comunicare mentre lo stai prendendo per il culo lo fai guadagnare con le feature quindi quindi evidentemente sta riesce a comunicare qualcosa e da quel punto di vista è da applausi punto stop è un cavallo di razza è un cavallo di razza c'è niente da fare allora questo giornalista non è inglese ma francese ed è interista vabbè se non ha profilo verificato e sono giornalisti non ci credo Mattia nell'azzurro esatto purtroppo alcuni fratelli ci sono cascati va bene ragazzi però non ne parlate nelle chat ragazzi ve lo dico davvero più parlate di queste cose più parlate di queste cose più date adito date adito quindi se avete dei problemi rivolgetevi a chi ti dovere ma non ne parlate sul web così sentite a me voglio dire andiamo avanti andiamo avanti Paul Fox ti capisco giallo ma siamo sul tubo e io anche in modo spensierato poi quando vi avete tante idee ma è bello così è vero io non condivido solo una cosa di Paul Fox però vabbè ci posso fare c'è un brutto c'è il peccato ama dei brutti colori è un po' di colorito avete dei gusti strani Damian ancora mi devi spiegare che cazzo vuol dire Mind Full Passion Mind Fitness Mind Fullness prima mi spieghi che cosa è quella cosa oppure Mind è mente Full è completo e Ness è senza quindi boh Ness sì è una negazione adesso precisamente non so quello che ha scritto non l'ho letto però io sono 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 ammirato dall'eloquio di Luigi comunque no è che sono due o tre giorni che mi sto trattenendo con la birra capito quindi sono molto vabbè stiamo avanti no raga nessuno ascolta più quella persona tranquilla no vabbè ma io l'ascolterei a volte ci vado quasi quasi che l'ho già chiuso peccato ha chiuso oggi mi sono sentito al telefono mi ha detto ma vieni in live mi ha detto guarda si è chiuso metti il link ha detto Damian metti il link che te lo spiega ah ok allora sì Damian ma chiunque voglia salire tanto stasera non c'è voglia di andare a dormire che mia moglie dopo che ha sentito sta cosa la vedo sull'incazzato andante preferisco restare in live poi gli devo imparare la formazione dell'inter dello scudetto ai trapattoni per calmarla ecco e quindi allora Pif se Pif arriva porta lo scudetto in Champions e tutti si convertono all'Islam vedi che le aspettative sono quelle Dino che dico io il problema è quello ragazzi li vido dopo le notte che ho fatto tardi buonanotte dove vai è domenica no no mandalo a cagare tanto sta arrivando il nostro Damian mandalo a cagare via Marcus fuori dai bambi no ma che c'è tanto ti sta sulle palle Marcus visto se n'è andato se n'è andato no ragazzi non arrivate a minacciarvi che non ha senso no infatti non ha senso metti lì te l'ho messo sali pirra certo Paul che puoi entrare se vuoi entra minchia Paul però dopo devo fare la sanità eh dobbiamo disinfestare dopo devo fare la sinità se vuoi allora Paul entra voglio sfidare l'impossibile pronto aspetta aspetta che prendo la mucchina prima poi entra no Mattia 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 però smetti da descrivere queste cose per favore te lo chiedo per favore anche non essendo il proprietario del canale bloccati assolutamente no ti rispondo assolutamente no forse a te l'ha chiesto e a me no me no mai mai eppure eppure ti dico una cosa su questo canale ha collaborato lui eh però mi dispiace ma con me mi chiama mi chiama io se vuoi ti faccio vedere no non te lo posso vedere perché è una questione eh di privacy però se vuoi ti posso far vedere lo screen che mi ha chiamato oggi per la prossima volta ma lui stesso l'ha detto nella live in cui sono andato l'altra sera che erano tre mesi erano tre mesi che mi sta dietro per per salire sul canale quindi c'è Paul beh a te che sei in Giappone io invece che ci sono stata non ti invidio non è che mi faccia impazzire vabbè che non ho potuto visitare avevo già visitato Osaka tanti anni fa eh io ho detto tutti ma sali però eh sali Paul dai ma ce l'ha con me eh chi? no con Paul 100 euro mazza no 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 lascia perdere tu mi hai fatto il polizio ci hai fatto il polizio 100 euro può più essere 200 euro a Damian per spiegarmi che cazzo vuol dire mindfulness mindfulness sti cazzo mindfulness mindfulness cosa vuol dire ma Damian sono curioso lo sai che sono un spettatore curioso ma vabbè non sei uno spettatore eh comunque la mindfulness è un approccio meditativo cognitivo per il lavoro eh ci sono dei corsi per si definisce stato mentale attivo per cui sei molto focalizzato non ti fai distrarre insomma è una capacità di ridurre lo stress e essere più performanti sul lavoro quella ci sono dei corsi è tipo il training autogeno è una specie di training autogeno si è un po' un'evoluzione si è un'evoluzione è una pratica io nello sport per esempio il training autogeno lo faccio c'è si si ma la mindfulness si applica non dico a tutto però tutte le volte che tu devi fare delle performance si può utilizzare poi qualcuno ci crede qualcuno no però ecco era quella roba no perché mi avevi proprio colpito col discorso che hai fatto prima c'è davvero mi era piaciuto quindi ho detto secondo me dovresti buttarti in quel campo ma lo dico senza prese per il culo davvero diciamo che io generalmente quando mi approccio a determinati discorsi ma anche da un punto di vista lavorativo cerco di di fare di fare sempre questo tipo di ragionamento quindi di staccarmi dalle situazioni e di analizzare le situazioni come se ne dovessi vivere dall'esterno e quindi non mi faccio condizionare da niente no è uno stile proprio che c'ho da sempre su tutte le cose su tutte le cose che poi mi porta a ragionare meglio oggettivamente perché quando vado a fare dei ragionamenti poi riesco a ottenere dei risultati proprio perché hai ragione in questo modo signori io vi lascio buonanotte Fabio buonanotte buonanotte ma per chi amemi tutti signori e signore no infatti sono dei maleducati sono dei maleducati sono proprio dei cattivori l'unico vero signore è Damian io l'ho sempre detto grazie infatti il primo a dire signore è stato lui esatto dovrebbe dire signore e signori ma perché se fossimo se fossimo dal vivo Damian si presenterebbe con un mazzo di rosa in questo momento sì vabbè come come Vincenzo messa nel culo però vabbè lascia perdere Vincenzo te la ricordi quella foto e chi oh c'abbiamo Paul Fox preparate la buchina abbiamo il copo in là dal Giappone dal Giappone con furore non sto scherzando sei salito e ho avuto il prurito dal Giappone con furore io ho cominciato a scarnutire ragazzi domani se ci sei che prendi tutti l'attrezzatura medica per sanificare il canale ma in che live sono scusate non ho capito dove sono non sei vergogna vergogna sono da voi sono da voi sei da noi sei toscano sei toscano aspetta che ti metto qua perché ti metto qua che c'è lo scudetto sopra che ti ti illumina in mezzo l'altro 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 dito senti Paul ma in che in che luogo in che città del Giappone 6 Kobe ah sei proprio a Kobe cavolo io l'anno prossimo vengo lì te l'ho detto ieri infatti sono a metà strada sono tra Osaka e Kobe però sono le prefetture come sono ah ok io a Osaka ci sono stata nel 2007 vabbè quest'anno Tokyo l'anno prossimo Kobe carne 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 c'è Dino che ci suggerisce di chiedersi il Green Passera ma in Giappone non c'è il Green Pass non c'è il Green Pass ma ci sarà il Green Passera però quello sì 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 quello è internazionale il Green Passera non si discute tutti vaccinati da quel punto di vista eh in Giappone un po' meno vero? esatto no 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 sono aumentati ultimamente siamo già arrivati sul 75% meno male tranquilli tranquilli questa estate non era un gran che no no fino a luglio eravamo forse un 20% però pochissime pochissime anch'io che ne ero vaccinato ma come c'è arrivata la Juve in Giappone fammi capire che schifo eh come c'è arrivata la Rubentus in Giappone ma c'è anche degli interisti c'è anche c'è anche interisti molti napoli ma noi almeno abbiamo avuto Nagatomo ecco perché ci sono gli interisti fai iscrivere tutti a Inter for Passion fai in questo senso vabbè ti voglio fare una domanda seria già che abbiamo un gobbo in live cosa vuol dire per te essere interista seria no mi stavo davvero a fare una domanda cosa vuol dire per te essere interista stavo partendo davvero poi eh vedi non l'abbiamo fatta a Matteo la domanda della prima volta no io l'ho fatta la prima volta non è la prima volta perché lui non è la prima volta allora sto aspettando ancora quella di Damian che è da un anno ci sto pensando ci sto pensando ho detto sotto le feste la mia deadline sì ma l'avevi detto già l'anno scorso però non ci troviamo mai nel periodo delle feste questo sarà il secondo Natale Inter for esatto esatto allora Pao cosa ne pensi della situazione Piff adesso seriamente o cosa si dice all'estero della situazione io sono già stato bannato in tutti i canali interisti per cui evito di commenti anche qua non ti banneremo perché lo sai ma no ma sei l'unico Juventino che non tira fuori la parola prescritti e roba del genere quindi no vi ricordate quella live famosa quelle discussioni con i Juventini dove avete bannato 30 o 40 Juventini non so quanti che già ci conoscevamo da tempo con voi io ho evitato di scrivere perché insomma se devo venire a casa di uno poi cominciarmi ma lì è stato un massacro lì c'avevamo l'avvocato che era era partito dopo un quarto d'ora 20 minuti io lì con la verità ho cambiato canale senza offesa non per perché perché ce ne sarebbe stato da dire sia gli Juventini che gli interisti per cui sono evitato mi sono sottratto dal macello diciamo che è stato un esperimento non riuscito no infatti mai più anche se dal punto di vista delle visual ha ottenuto il risultato però non è quello che noi scendiamo su YouTube cioè il nostro spirito non è quello di avere le visual ma è quello di discutere insieme serenamente invece no c'era troppa gacciara non mi piace il discorso no sul discorso Piffi invece secondo me io come ho detto anche in altri canali prima che tirassero giù secondo me è una trattativa che è esistita e forse c'è ancora che ci sia stato un interesse del fondo all'Inter al Milan ha confermato anche questa questa Amanda che c'è una conferma questa signora era in tribuna con la partita Correale e allora era venuta per il fondo adesso sembra che sia venuta a fare un giro in Monte Napoleone però non c'è comunque l'interesse secondo me c'è stato il discorso è tutto quello che c'è nato negli ultimi due mesi sopra con questo fino alla data del 19 tutto questo secondo me nomi degli sponsor nome del nuovo allenatore del presidente io ho detto secondo me è una bufala ma non perché ho delle fonti ho delle fonti zero mia sensazione la sensazione no di fonti ne ho zero meno meno di chiunque in Giappone non scrivono è fatta? no in Giappone no sembra che scrivono che Nagatomo torna all'Inter si fa cosa il nome del giardino comunque Luigi io leggendo lasciato ho scoperto che Mario Floridi una volta era uno che comunque saliva in qualche live lo invitiamo anche qui a farlo quando vuole chi è? non ho capito Mario Floridi ma Mario può salire tranquillamente quando vuole infatti il link c'è il link può salire non è un problema tutti quanti può salire un colpo di merda come Paul Fox e non può salire un italienese voglio dire che pezzo di merda e quindi dispiace per Dario dispiace per Dario che non lo vedo più speriamo dai che appena è finito tutto questo casino ma infatti non mediatico social ti dico una cosa io ho provato a scrivergli due settimane fa non gli è proprio arrivato il messaggio quindi non ho notizie certe di Dario sinceramente da quando è sparito sul canale ho provato a scrivere ma se l'hai impegnato in qualche tribunale sai che lui lavora nei tribunali sì allora quando ha riaperto il canale quando ha riaperto il canale mi ha detto che stava lavorando tanto qua ci siamo sentiti un po' avevo pensato pure di fare delle live insieme però poi niente a un certo punto è sparito non so che fin ha fatto veramente e mi dispiace perché quello che dicevi tu su Dario io lo condivido al 100% anche perché io mi ricordo di te una volta ti bannai da rivoluzione e poi Dario in una live mi disse no mi disse no per favore sbanna pensate sì sì è vero io ho bannato Paul Fox una volta perché era molto sì perché io sono il suo grillo la sua coscienza io leggo i vostri commenti io leggo i vostri commenti io leggo i vostri commenti senza offesa però gli vado sempre ah ma ti stai tranquillo se c'è un attimo senti di tenerlo però lui è un cavallo sciolto come diceva prima lui è puro santo lui parte ancora 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 parte per la sua strada ma poi riesci ad ottenere l'obiettivo che poi cioè allora ripeto l'obiettivo di tutti quelli che stanno su youtube è quello di fare visual no a me lo che non fai una trasmissione tipo questa che si chiacchia tra amici e basta però l'obiettivo di chi fa i video è perché i video vengono visti ci siamo eh certo eh ragazzi Dario era l'unico che aveva mille iscritti con duemila visual era l'unico l'unico sì diciamo che la piattaforma ha un po' un altro fine però va bene insomma i capi diciamo diciamo che ci dovrebbero essere dei content creator ok non ci sono perché quelle non sono ragazzi da un punto di vista commerciale da un punto di vista commerciale Dario è un cavallo di razza c'è niente da fare perché ma che porta visual eh ma bisogna vedere bisognerebbe vedere le metriche del suo canale Luigi cioè nel senso non è solo io le guardavo non è solo la visual però vabbè diventa un discorso tecnico no 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 aspetta Damian te lo posso fare questo discorso tecnico perché io le metriche del canale le ho analizzate prima con rivoluzione interista successivamente di nuovo con rivoluzione interista quando è ripartito da zero eh lo gestivo io ero io a gestire il canale di Dario poi l'ultimo canale di Dario Dario Calvi non lo gestivo io ma lo gestivano gli esonerati quindi non ti so dire però io ho visto l'evoluzione di rivoluzione interista ho visto tutte le due fasi e le metriche erano spaventose cioè i video di Dario no eh se tu vedi analizzi i miei video su quattro minuti si fermano a tre ok il video di Dario c'è come visualizzazione di media il video di Dario cioè su quattro minuti si fermavano a tre cinquantanove ok quanti contratti di affiliazione ha sottoscritto che senso quanti contratti di affiliazione ha sottoscritto col canale cioè di gente che 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 si abbonava al canale no 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 i sponsorizzati che lui poteva proporre cioè il suo spazio quanto costava cioè quanto lo pagavano perché poi lì la partita si gioca lì capisci cioè io posso fare anche tre milioni di visualizzazioni ma se non ho un pay per click ma non puoi fare questo sostanzialmente basso cioè poi ribadisco diventa un discorso lungo non è neanche giusto che i ragazzi li annoiamo però sostanzialmente la ciccia è quella capisci cioè nel senso poi per carità io stesso sono d'accordo ecco perché ti dico Luigi che la piattaforma viola è molto più remunerativa sono d'accordo io ti posso dire una cosa che quando avevamo 5.000 iscritti con rivoluzione interista più o meno entravano sui 500 euro al mese con un video al giorno questo quando però quando c'era rivoluzione interista con 5.000 iscritti e quindi 2-3 anni fa poi dopo si è stoppato tutto dopo si è stoppato è ripartito da zero in 15 giorni ha attivato la monetizzazione 15 giorni si si dopo di che è esplosa poi è esplosa la situazione è andato a finire con gli esonerati però in realtà il potenziale c'è è colpa di Vincenzo quello che esplode sempre è un altro discorso però è quello capisci anche l'algoritmo inizia a dire ok io te la ti faccio anche ripartire però se ogni 3x2 tu esplodi implodi poi magari funziona qualcosa che ti parte la shitstorm perché io ne ho viste parecchie come normale che sia dopo un po' inizia a scendere in classifica e quindi è finito il gioco capisci quello che è il discorso però vabbè il rating di Social Blade di Dario del canale di Dario l'ultimo era B era B con 1500 iscritti 15 vuol dire se tu pensi che canali grossi tipo Fabio Bergomi li ho visti a B meno beh ma pure perché sono troppi iscritti per quelle che effettivamente visualizzano capito neanche quello certo tu devi guardare la cosa in proporzione voglio dire devi guardare la cosa in proporzione Dario da quel punto di vista fosse stato se avesse la costanza nel fare le cose allora sì sono d'accordo con te gli manca la costanza però da un punto di vista commerciale è un boom è un boom è un boom commerciale è un boom ha finanziato tutto perché l'uno non si affilia come diceva giustamente Darmiano non si affilia a nessuno poi la fine commercialmente lui non è che crea sponsor cioè essendo totalmente inaffidabile quello che dicevo io in summa è che alla piattaforma interessa che le persone sostanzialmente acquistino c'è detto in maniera molto cinica quindi è per quello che siano affidabili che faccia comunque video ogni giorno deve essere uno spazio che ha una sua sì certo sì sì e quello non ce l'ha lui questo purtroppo questo gli manca cioè lui può fare anche tante visualizzazioni però non ha né la costanza né la manca la costanza gli manca la costanza però quando la fa dal punto di vista di comunicativo riesce a centrare l'obiettivo questo è quello sì sì ma quello è innegabile però non ha la costanza e quello purtroppo capisci anche che però chiudere e aprire i canali a un certo punto ti fa anche abbassare di credibilità certo se ne fosse uno aperto il nome suo però quello perché non credo che sia in grado purtroppo purtroppo sì perché secondo te perché adesso è fermo perché non è in grado io ho fatto il video tutorial di come si fa un canale però ma l'ha fatto tua figlia di nove anni no quello era di come cambiare il nome al canale ah vero però vabbè però mia figlia ha nove anni invece il video vabbè se uno non c'è diciamo non ha proprio la voglia di imparare c'è poco da fare non è che è così Dario o lo ami o lo odi c'è niente da fare è così Paul Fox è la dimostrazione da buon bobo di merda però quando apriva un canale Dario si fiondava c'è niente da fare si 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 io Dario Dario è un giappo gobbo un giappo gobbo un giappo gobbo un giappo gobbo un giappo ma anche astrologo perché Paul Fox non è anche un astrologo si si è quello dell'oroscopo mi ricordo mi ricorda qualcuno si si Paolo Fox si ha dei disegni ogni tanto dodicesimo toro ah la classifica della domenica buonasera è una parola grossa all'1 a 31 però si fa buonasera ci sta dipende da dove ti colleghi per esempio sarà giorno per Paul Fox no? si si per me ma io allora se volevo fare una domanda al nostro amico ma cosa ne pensa di Allegri? Allegri Allegri per me è dispiaciuto a quei dubbi cinque anni cioè io l'ho sempre stimato cioè onestamente c'è uno che ti porta cinque scudetti tre coppi taglie due finali anche se perse di Champions poi capisco che non ha fatto il bel gioco quello che tutti quelli che chiamano il bel gioco però io non vedo non ho mai capito questo astio del tifosi di Juventini contro Allegri cioè perché poi lui ha sempre accettato tutto quello che gli ha passato la minestra che gli ha passato la società come un po' il discorso di Inzaghi lui fa quello che gli dà la società se gli lasciava a Lukaku a Kimi era meglio però cosa deve fare deve andare in televisione a bestemmiarlo a tirare degli accidenti ai dirigenti cioè c'è poco da fare cioè poi uno può dire uno yes man un'azienda lista dica quello che vuole intanto io preferisco sì ma poi io lo preferisco perché comunque devi avere rispetto cioè vieni pagato poco o tanto comunque dei milioni di euro bisogna che che tu davanti alla statica che sbatti i pugni in ufficio quando sei con i dirigenti lo capisco ma nel pubblico al pubblico devi avere un certo atteggiamento rispetto anche verso i tifosi così per me per me quello conte quello che anche alla Juve non è mai piaciuto perché nel suo modo di fare in pubblico che sia un tecnico valido che porti risultati i risultati sono chiari è il discorso di Allegri cioè basta i risultati anche con voi vi ha fatto uscire da un incubo durato dieci anni più di così che doveva fare però tutto quello che sulle sue interviste non mi piace l'uomo però il tecnico non si commenta è incontentato è solo apprezzato sa fare il suo lavoro però io sono contento ma sai quest'anno purtroppo io speravo nel miracolo detto tra di noi speravo che sai soltanto l'anno scorso con Pirlo fosse stato un anno perché Pirlo non era invece purtroppo Pirlo l'anno scorso io ci ho scherzato sopra ma poveretto anche lui quest'anno abbiamo la riprova aveva materiale aveva poco materiale lui è più Ronaldo che l'ha aiutato ha aiutato Ronaldo l'anno scorso anno a fare una caterva di gol che quest'anno non abbiamo neanche chi la mette dentro neanche se piangono via davanti siamo messi siamo messi veramente meglio meglio così meglio così meglio così meglio a fine figlio sì no no abbiamo bisogno abbiamo bisogno di sì sì sono abbiamo bisogno di cambiare 4-5 giocatori almeno almeno vecchia signora ci saranno vecchia signora cosa cosa ti aspetti dalla Juve quest'anno non mi aspetto niente perché come dicevi anche te poi non so se è vero oppure no con l'affermazione che hai detto che ancora devono pagare degli stipendi io non lo so perché non sono informato di queste cose però no però comunque siamo messi con le pezze al culo per cui è inutile che stiamo a raccontarci delle cose diverse per cui come leggo in questi giorni o escono due o tre giocatori di quelli con contratti pesanti tipo Ramsey Francesco Rabiot se non escono due o tre giocatori con questi contratti non arriva nessuno purtroppo non arriva nessuno e poi andare a puntare purtroppo su delle tra virgolette delle scommesse giocatori non ancora fatti campioncini nuovi giovani perché con i soldi che abbiamo non è che possiamo andare come discorsi di Ronaldo abbiamo venduto Ronaldo andiamo a comprare che andiamo a comprare ha messo a posto un buco rimane il buco non è che può andare lì vado a prendere un altro da 20 milioni di euro all'anno di l'ingaggio ma chi è finita poi dopo si tornerà nei prossimi anni vedremo oggi la situazione questa se andassero via questi tre o quattro centrocampisti e vanno a prendere due o tre ma giocatori normali come può essere Lucatelli già insomma sistemiamo sistemiamo ribadisco Lucatelli non è un fenomeno però un buon giocatore se gli pidi altri due o tre funzionali può già comunque arrivare in zona Champions League con serenità da Natale in poi cioè da Gennaio in poi però vedremo perché dei barri con soldi non ce ne sono per cui è inutile stare a farsi quest'anno arrivare nei primi quattro con serenità e fare cosa ne so arrivare ai quarti in Champions per un discorso di cassa di soldi se ci abbiamo la botta di culo la sculata passiamo gli ottavi facendo due brutte partite guarda io ho un gioco che faccio da anni prendo le iniziali delle squadre che hanno eliminato la Juve negli ultimi anni a partire dall'Ajax poi Lione poi Porto se pensiamo a come si chiamava il vecchio stadio della Juve delle Alpi Alpi Ajax Lione Porto I Inter vi eliminiamo noi quest'anno se fosse così però vuol dire che siamo arrivati quasi in semifinale perché scusa noi già ai quarti vi potete incontrare noi già agli ottavi ragazzi se li eliminiamo in semifinale qua almeno tre quarti di questo canale si fanno una pippa in diretta siamo segni ragazzi se questo gioco anche perché un'altra squadra con la I in Champions non c'è e se la mia previsione sia vera è solo l'Inter io non voglio rovinarvi ma non succede ragazzi non succede ma se succede dammi se succede speriamo speriamo e cadiamo veramente in un incubo che allora allora per me ci erano di andare e vivere questo incubo no no però i sogni di Gloria penso che qualsiasi Juventino li ha messi nel cassetto cioè quest'anno c'è una supercoppa da giocare a gennaio però il 12 gennaio supercoppa poi la Coppa Italia insomma abbiamo ancora delle io sono del parere che pur non cambiando nulla ma comunque sia nelle prime quattro arrivate Luigi l'ha sempre detto l'ho sempre detto questa cosa ma il discorso che come anche gli scorsi anni si sono la pochezza degli altri che ci fa arrivare no guarda la Roma guarda che la Juve non è il primo anno che parte lenta e poi si si quest'anno vincere è impensabile però vi vadisco se abbiamo la botta di culo che Ranci e Rabiot riusciamo a piazzarli via da gennaio ma questi erano solo uomini che ha voluto allegri scusami no chi l'ha preso i parametri zero li ha presi i parametri zero i parametri zero i parametri zero purtroppo è che purtroppo gli ha sbagliati sono stati sbagliati i parametri zero e costano tanti no Cristian hai detto una bestemmia no e poi c'è e poi c'è da dire un'altra cosa però che però in Champions vedo un'altra Juve rispetto a quello che vado a giocare è ma logico dai è diverso no Cristian è vero hai detto una bestemmia hai detto una bestemmia perché no no aspetta allora per far avverare la mia previsione hai detto una cosa buona perché vuol dire che ci arriviamo anche noi in finale e li battiamo si vabbè se gli fottiamo la finale di Champions questi qua si suicidano meglio degli interisti che non hanno la pippa altro che tre quarti si fanno la pippa no se dovesse succedere una cosa così impossibile cioè diventi interista diventi interista quel punto lì basta l'hai detto l'hai detto l'hai detto attenzione è ufficiale Francesco Longo 2 Francesco Longo 2 esatto esatto come lungo è ufficiale se dovessi combattere in finale di Champions diventi interista fantastico io sento no no speriamo di no mi preoccupo per quanto io sono uno dei pochi che in vostra triplette avete io propongo un problema familiare un dramma familiare c'erano quattro fratelli e ci dividiamo sulle due sponde una giuventina e l'altra e l'altra dei vostri colori ah vedi perché non lo fai di scrivere interforpation i fratelli diciamo diciamo abbiamo fatto salire te che sei il colpo figurati se lo faccio salire il tuo fratello è un belista infatti e lui e lui si è fatto tutta perché lui ha fatto per anni l'abbonamento come si chiama a San Siro per la serie A quell'anno lì dei triplette si fece una scelta e andò tutte le trasferte per la Champions tutte fuori Barcellona Madrid Londra e senti l'ha fatta anche quest'anno la scelta quest'anno in Italia in Italia con il club insieme no scusa non ha fatto l'abbonamento quest'anno ci vanno ogni tanto su quando trovano i biglietti scusa non è facile trovare i biglietti quest'anno noi andiamo a vedere Inter Salernitana Inter Salernitana si è prenotato con la Blind la Blind la vedrà Inter Salernitana con spalle alla colonna allora io dopo dieci anni quindi da quando sono diventata non vedente vado più allo stadio ho detto qualcuno mi porti allo stadio e lui si è dato disponibile però ha detto che mi farà vedere la partita o seguire la partita spalle ad una colonna e ma tanto che te cambia Blind è importante che entri nello stadio e non mi cambia nulla però almeno sapere che di fronte ho lo stadio vuoi mettere la figata di fare la live e te spalla alla colonna cioè dai Blind che stronzo è una cosa stile Inter for Pace è caduta la Blind no ci sono ci sono Eugenio ah Eugenio cioè vuoi mettere la soddisfazione è una cosa proprio stile Inter for Pace è certo figurati uh c'è Paolo Fox eh sì hai visto hai visto l'ho portato Paolo Fox in live il Giappogobbo il Giappogobbo adesso adesso facciamo un canoscopo allora vai 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 facciamo facciamo i tarocchi facciamo i tarocchi più che le carte io che non ho ariete l'arriete più forte del campionato è Vlaovic grandissimo Toro è un mese che non la butta dentro mica e neanche in Argentina e neanche con l'Argentina gemelli i gemelli filippini erano una coppia di calciatori guarda te lo potrei fare su tutti i segni se vuoi ma ragazzi io se vedo Paul e vedo Damian nella stessa chat ragazzi stasera scendo 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 perché così si può sfogare perché posso rispondere un attimo ad Alessandro PPP allora dice blind lancia Luigi di peso in mezzo al campo non lo può fare per un semplice motivo perché poi si troverebbe il petrolio e sarebbe un indizio dell'arrivo di PPP esatto più che altro no ma più che altro il problema è un altro dopo chi cacchio mi riporta a prendere il treno hai visto hai visto ci vuoi sono un servizio essenziale anche perché la cosa è questa se vado a vedere la partita io ho due possibilità o andare nel settore dei disabili o andare in settore dei disabili no o nel settore dei disabili o in tribuna d'onore tribuna tribuna d'onore che cazzo cosa fai quindi se ti accompagno ti accompagno in tribuna d'onore capito io chiedo di andare a vedere il derby e lui mi porta a vedere l'intersele io ci vado al derby basta l'ultimo derby che ho visto è stato il 4 a 2 ho rischiato l'infarto per 4 volte per 6 volte perché 2 è con loro e 4 volte è con il nostro no il derby non è per me basta se tu pensi che io l'ultima partita che ho visto con i miei occhi è stato la finale di Champions quando abbiamo vinto il tripleto poi dopo un mese dopo si è speddo tutto quindi invece di parlare di Inter abbiamo chiesto a Paul di parlare un po' della sua Juve ci ha anche detto che ha due fratelli interisti io mi vado a prendere la birra dopo un po' un po' se ci vuole la birra li sento solamente quando vincete mi mandano a fanculo l'unico momento che li sento sono quelli ma loro stanno in Italia e tu in Giappone si si in Italia si si sono anche perché e l'anno prossimo mi porti a mangiare la carne a Kobe ha detto si ti porto a mangiare però se vuoi anche il Kobe però ti faccio mangiare provare il Santa Biff il Santa Biff che è molto buono anche quello io l'anno prossimo dopo i mondiali a Kobe proprio i mondiali? eh sì io ho i mondiali l'anno prossimo a Kobe che mondiali scusa? mondiali di atletica paralimpica ah complimenti e senti ti sei perso le il le olimpiadi che abbiamo fatto qua sopra le paralimpiadi sì mentre era sì le paralimpiadi io quest'anno come la Juve dopo nove anni ho perso la medaglia d'oro alle paralimpiadi sono arrivato a due volte secondi due argenti alle paralimpiadi no davvero purtroppo con questo casino che abbiamo avuto qui noi che come si chiama non si potevano seguire in là no ma che ma che si amato ma guarda che nemmeno noi siamo mai usciti per Tokyo non ci hanno fatto usciti nemmeno mezz'ora noi siamo tornati alla normalità da un mese che adesso tutti anche a livello di locali notturni e tutto è stato riaperto però prima fino alle sette c'erano praticamente i ristoranti chiusi tutto chiuso era era veramente un funerale in giro poi non si non si poteva comunque non vendevano alcolici fino a fino a un mese fa non vendevano alcolici neanche alle sette di sera per cui non si andavano neanche fuori a fare una birretta un aperitivo con qualcuno cioè proprio un mese abbastanza quest'estate veramente non ne parliamo neanche salute Paul Fox salute è stato veramente un peccato perché le hanno fatte tutto però si con molte restrizioni infatti io che ero stata comunque ad Osaka nel 2007 quindi il Giappone un pochino l'avevo visto gustava comunque sapere di poter girare invece purtroppo poi tochi se vieni il prossimo anno volentieri si si a Kobe proprio andiamo perfetto no no andiamo ti porto io a mangiare dopo ci vediamo dai si si mancano nove mesi Luigi alla mia rivincita nove il bronzo è vicino dai vaffanculo vai a fare il culo scusa stavolta ma ti manca il bronzo non me ne frega il cazzo stai dicendo una cazzata siamo vicini al quarto quinto posto qui quindi dobbiamo giocarci quello minchia la medaglia di legno la medaglia di legno alla parte se scendi dal podio se scendi dal podio no ma guarda allora per scendere dal podio devo proprio cioè tagliarmi non solo la testa ma non dico tagliarmi le braccia o a poco ci manca io mi immagino no che tu mentre stai per tirare e madonna diventi il cuscino poi mentre stai per tirare gli viene in mente la mia la mia voce che le dice vai tanto sei una medaglia d'argento no allora si incazza e la lancia fuori capito cioè può essere può essere a proposito di figa che non ne stavamo parlando Damian come stai è bene cioè si dai abbastanza bene è l'ora della figa questa è che di solito guardo in questo periodo guardo molto i suoi stati di instagram li devi spiegare no sto cazzeggiando guarda sto veramente cazzeggiando sto facendo non dico degli abitess ma sto cercando di capire alcune cose perché volevo capire un attimo la piattaforma come funzionava dovrei iniziare una cosa a gennaio quindi per quello se vedi delle robe strane poi magari te le spiego in prima perché sono lunghe bravo comunque io avevo chiesto vedi Luigi non legge mai i miei messaggi avevo chiesto se viene in live se può portare anche Chiara Giuffrida che secondo me è molto competente di male eh sì immagino perché ti piace vedere da Chiara maialetto no vedi che sei solo malizioso se voi glielo chiediamo ma chiedi chiedi secondo me ne va la pena è che essendo essendo impegnato con le varie cose oggi glielo ho chiesto però poi dopo alla fine ho detto facciamo una una chiacchierata telefonica e anzi che sarà molto più semplice fare molti vocali in questo periodo essendoci più programmazioni e quindi un po' un casino però sicuramente viene perché poi in un modo o nell'altro è sempre venuto sì e poi a Radio Nera Azzurro ci lavora anche quel giornalista non so quello che faceva anche il wrestling com'è che si chiama quello Nera Azzurro ah tu dici Recalcati bravo Recalcati perché io spesso l'ascolto lui ma non era diventato un procuratore di calcio guarda io sul lato senza togliere niente a Recalcati io sul lato quello a livello calcistico preferisco più l'apo per un semplice motivo perché è dritto e diretto e non gira intorno alle informazioni come quelle che ci sono in internet Christian è uno che si fa prendere molto la mano su questo punto di vista quindi so cioè già il canale è andato comandato sono approcci diversi chiaramente sì quindi sul lato quello giornalistico perché se ho visto che in chat qualcuno un po' si lamentava perché in effetti è un po' logoroico però secondo me a me piace il modo di comunicare di lato ma guarda logoroico sì nel senso che poi alla fine quando devi chiedere qualcosa è ovvio che ti aspetti una risposta che sia comunque argomentata in determinata maniera è normale sul lato quello estetico lo capisco perché molti poi dicono cavolo però no però se tu ci fai caso lui è vero che ha dilagato nelle risposte però poi ha toccato tutti i punti comunque esatto abbiamo fatto meno domande apposta sì infatti poi questa è la domanda preparata hai visto hai visto che professionalità sì preparata in due secondi prima di fare la telefonata che cazzo gli chiediamo così è stata e io sguardo il telefono ma che cazzo gli chiediamo al labo risposta di chiedi quello che cazzo vuole meraviglio sì sì poi lui ti ha fatto vedere ovviamente adesso ti ha fatto vedere l'elenco degli ingredienti per fare la troppa di domani però quello è un altro paio di domani farina aspetta che non si vede bene c'è scritto farina 00 sì sì ma tu doc dove eri in bagno che rimbombava tutto quando parlavi guarda mi sono dovuto mettere per forza perché ero tornato a casa e c'era la bambina dall'altra parte mi metto dall'altra parte sì mi metto in quella zona se no è un disastro infatti ogni tanto suonava il cellulare e si sentiva sì c'era sotto la bip dell'attesa di chiamata ma Blend che specialità olimpica sei tu medaglia d'argento salto del pasto e lancio il coriandolo no faccio il getto del peso e lancio del disco guarda puoi scrivere assunta legnante su youtube e mi trovi senza problemi anche su wikipedia la trovi vai su wikipedia che c'è un po' di tutto su youtube trovi video trovi anche video di inter for passion eccolo eccolo c'è la live c'è la live di cinque ore di cinque ore che voglio dire se sei sensibile non la guardare ma scattare la denuncia però mai più mai più mi farò mi farò fare una maglietta da loro mai più mi farò l'ultima abbiamo già preparato quella con la canna di mobe sono riusciti a perdere l'ultima parte è stata spettacolare perché riuscivamo a dire qualcosa anche su quelli che non riuscivano a farcela lasciamo per non tocchiamo questo tasto basso del nostro no però dai alla fin fine tutto sommato è andata è andata è andata e quindi nulla ragazzi io io la chiuderei qui solo le due è passata ma ci sono 40 persone come fai? ho capito fagli fare delle domande a queste persone cerca di interagire hai ragione interagite fate delle domande avete la possibilità di avere un gobbo che è tranquillo e che se ho fatto salire il live vuol dire che è tranquillo infatti abbiamo il box che non lo vedavamo da me un tombard fam come come Damian cos'è 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 un tombard fam vai sull'italiano che si è capito che che cazzo cioè le lingue dai aspetta allora uso un'altra parola un latin lover come è sempre un anglicismo andiamo a e vabbè e vabbè vabbè per non dire omosessuale dai no non vuol dire abbiamo anche il proctologo ecco ecco il proctologo no no ragazzi il wide è fluo stop ok esatto è fluo quindi non binario perfetto no poi lui è un poviano quindi si impoviante ah ma me la spieghi sta cosa perché povia me la spieghi subito guarda 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 ascolta aspetta aspetta un atto te lo metto subito te lo metto subito così dove sta fa eccolo qua questa quando Simone dice oh ecco io c'è un pasquino quando Simone dice oh le patette te viene eia dai se c'è una cosa che ora so che non più io rivedrò è Luigi che dà un bacino a un argentino quando Simone dice oh dammi una mano prepariamo la live intanto poi salto su ma se non è mezzanotte lui non si fa vivo se poi magari viene in back, back, back magari defchiamo un po' ma con Marcos che sniffa colla e l'algoritmo quando Simone dice oh tu sei scemo quando dici che pasquino con Simone non avranno mai una vera relazione perché non potranno mai avere un figlio cosa ma tu sei scemo e capisco che stai diventando vecchio parli sempre di avanguardia e di progresso e poi metti Povia nelle storie insta cosa allora la storia di Povia col Guaid è questa la storia di Povia col Guaid è questa voi dovete sapere che io ho un metodo per guardare le storie instagram ovvero le metto a scorrere e mi faccio i cazzi miei allora un pomeriggio un sabato pomeriggio credo era avevo il telefono che girava con le storie instagram e io che con l'oculele che mi facevo i cazzi miei a un certo punto sento Povia non sapevo chi era ho detto chi cazzo è che ha il coraggio di mettere Povia nelle storie vado a vedere anche gli scrivo immediatamente guarda io sono aperto a tutti i ragionamenti possibili di questo mondo ci vuole coraggio poi dopo chi ha creato il sito su Povia è intestato a lui tutto è intestato a tutti i ragazzi non so però l'hai creato tu scusa una cosa ma perché guardi le storie se non ti interessano perché è un fuccanato non lo so è così capito ma non capisco il senso ma non le guardo le faccio scorrere e appunto e che cazzo ne so c'avrai una mania tu ce l'avrai ma tu ce l'avrai una mania cioè voglio dire vabbè ho capito ma non lascio la tu ti farei le pippette guardando Colpo Grosso io mi lascio le storie e suono l'Oculela cioè voglio dire è così vabbè è un paragone che va perso non l'ho capito colpo grosso colpo grosso io sono datato cioè voglio dire cioè ragazzi che cazzo devo dire è Pornhub dai è Pornhub però Colpo Grosso c'aveva il suo perché ragazzi chi è che di voi non ha visto Colpo Grosso l'ha visto pure la Blind colpo grosso ma si cin 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 ricoprimi di baci cin 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 faceva la ragazza cin cin io l'adolescente chiaramente scoprivo le prime gioie intanto Paul Fox puoi dirlo anche live cosa legge no One Piece parlavamo di fumetti di manga perché mio figlio mio figlio è un appassionato sfigatato segue questo fumetto da quando è nato è un manga sì sì è un manga è una mania è una mania che ha preso anche mia figlia quella dei manga e li disegna anche ha imparato a disegnare i manga che non è la stessa cosa che disegnare normalmente eh no cioè disegna i personaggi i manga li fa a mano libera guarda i tutorial e li fa e li fa ma guarda cioè veramente allora se c'è allora non so se se Paul è un esperto io non so perché sono entrato in questo discorso mi dicevano che c'è una sorta di fazioni tra i sostenitori di One Piece e altri che sostengono Naruto sono simili ma sono due cose ma c'è gente che adesso non dico che siamo però si litigano guarda che è più bello quello guarda che è più io sono al di fuori è così è un mondo veramente come ecco loro non hanno il calcio non hanno la tifoseria di calcio ma hanno pure dei manga c'è una cosa ma qui sì tutti i weekend come si chiama c'è un evento per festeggiare il compleanno di uno dei caratteri di esempio c'è stato alcuni mesi fa che non mi ricordo che mio figlio è gran fan di come si chiama adesso mi sfugge il nome quello con gli occhiali quello che aspetta come si chiama mi sfugge il nome descrivimelo che magari ha gli occhiali rosa ha tutta una coiette tutto di come si chiama rosa altissimo è uno dei uno dei personaggi con i capelli biondi come si chiama ma io non li conosco tu pensa che io per onorare il Giappone quest'anno sono andato lì a gareggiare perché noi non vedenti totali dobbiamo usare una mascherina e io ho messo quella dell'uomo tigre per Tiger Musk l'uomo tigre è una stagione la prima stagione però la prima la prima la seconda era una schifezza infatti la mia mascherina era della prima non della seconda invece fino agli anni prima usavo quella di Apolic Do Flamingo scusa Do Flamingo Do Flamingo mai sentito lui c'ha tutti i compleanni iniziano tutte le cose festeggiano online oppure si incontrano delle cose che da brivido per quanto mi riguarda perché festeggiare ma perché fanno lì lì si usa tanto il cosplay no? tutte queste cose sì sì c'è tutto c'è tutta questa cosa eh Luigi poi ti spiego cosa vuol dire cosplay dai sono quelli che si travestono come i karak mamma mia no no questo in realtà lo sapevo lo sapevo lo sapevo perché c'ho un'amica su Instagram che fa queste cose che si chiama Alessandra si chiama Calabrese ah è Immorta no ma poi poi qui c'è tutto c'è tutto anche l'industria che si chiama Immorta che fa il cosplay no 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 poi c'è tutta l'industria del sesso che ruota anche intorno a queste cose dei maniaci di manga per cui è una cosa anche raccapricciante per alcuni aspetti io ho scoperto una cosa del Giappone che mi ha sconvolto loro quando tu compri un telefono non hanno la possibilità di togliere il rumore del click alla fotocamera perché c'è un un problema che nelle metro fanno le foto sotto le gonne delle studentesse e quindi hanno fatto questo obbligo se tu vieni qui in Italia per esempio e vuoi togliere il click del telefono mentre fai una foto ti devi scaricare un'applicazione Sì abbiamo avuto tanti problemi con queste cose qui questi qua che poi i maniaci i maniaci sessuali sono veramente tantissimi per cui li è frustrati veramente Giappone pieno di maniaci Sì la gente è malata qua ero molto di moda a livello discografico ci sono i gruppi di queste ragazzine non so se le avete viste Sì quelle vestitine da vestite da esatto qua ce n'è un'infinità di gruppi così che sono ragazzi di 50 60 ragazzi che vadano tutti insieme e i loro fans non sono dei ragazzini della loro età sono gente di 40 50 60 anni una cosa veramente che vanno ai concerti si fanno fare gli autografi ma la gente divadiscono della mia età c'è capire la gente con il con il catetere le segure sì esatto da paura da paura e finché sono nel gruppo non si possono sposare o fidanzare perché c'è tutta questa schiera di maniaci sessuali che se si fidanziano devono essere tolte dal gruppo perché non possono loro devono essere proprietà di tutto il sito di questi fans perché sono delle cose un po' raccapriccianti da un punto di vista sessuale però però qui c'hai la cosa strana è che qua ci sono anche i bordelli uno può anche andare a bordelli c'è sfogati c'è non andare c'è inutile che ti invece no loro preferiscono come tutti questi negozi che andate a Tokyo a da Radicu ci sono dei fetici delle mutandine dei reggisenni quello la carne di Kobe com'è in Giappone ecco la carne Kobe e di Sandra che parlavamo prima è molto buona però ne mangi poca perché è molto grassa molto molto grassa io ho preso io ho preso una mattina di whisky giapponese e una di sake quella di sake l'ho aperta quella di whisky ancora ce l'ho chiusa io l'ho preso io ho preso la carne di Kobe l'ho presa cos'è tre o quattro settimane fa l'ho fatta arrivare e tu pensa che il whisky giapponese è definito uno dei più buoni al mondo si si lo Yamazaki più altri ce ne sono tanti non mi ricordo me l'hanno me l'hanno fatto prendere perché noi abbiamo fatto una settimana prima di andare nel villaggio olimpico siamo stati a Sendai e quindi lì avevamo delle attache quindi delle accompagnatrici così che ci hanno illustrato cosa volevamo prendere qualche ricordo così si è andato anche un po' no non ci hanno fatto andare da nessuna parte non potevamo tu pensa che a Sendai due settimane lì dieci giorni noi vivevamo tra due piani l'ottavo dove mangiavi e il quarto dove dormivi e nemmeno l'ascensore da soli potevamo prendere bolla tutto in bolla comunque anche anche gin è buono oltre il whisky whisky cazzo questo gin il gin mamma mia veramente siete ostinzionati col gin fino a 15 anni fa non sapevate neanche cos'era io veramente ho preso ho preso benzina io avevo preso il whisky il whisky per una persona ma poi alla fine non se ne è meditata e quindi me lo sono ascolta damian aspetta aspetta ho una cosa aperta con damian damian io bevo il bombay quando avevi sei anni lascia aperta ecco e non il bombay in latina il bombay quello fa vabbè il bombay cosa ci avete contro il bombay in latina voglio sapere fa cacare dai dai che schifo poi in genere il bombay è per le signorine scusate detto da una che beve la corona che schifo il bombay in latina ho capito ma io ti ho detto che preferisco la corona ma non ho detto che non bevo la ten non so chissà che altro ma perché sono le marche più commerciali possibili capito la corona a me piace è leggera non per la corona non per la corona non mi riferivo a quello corona va a gusti comunque poi fondamentalmente quando è uscita la corona al tempo era la cosa che andava più di moda per il semplice motivo che era sponsorizzata dall'america come la Budweiser eh sì la Bud caspita mi ricordo ancora le pubblicità della Bud porca paletta ma la corona ancora tutt'oggi è una delle birre più vendute ragazzi io in Frigo Shot ho trovato un'offerta della corona extra che non so nemmeno che cosa sia extra che vuol dire se è più grande la bottiglia o c'è qualcosa di più dentro fa più cagare generalmente guarda le bottiglie di vetro di corona sono di 37,5 millilitri non sono 33 questo sa pure i millimetri eh sì no comunque è più grande ecco perché ma non è ancora toccata la bottiglia d'inverno d'inverno vabbè che ho ricominciato ad allenarmi quindi non bevo però ecco ce l'ho lì ho detto magari è più è più grossa leggermente più grossa adesso qua stanno spingendo per l'aperoni in Giappone sicuro di in Giappone l'aperoni mamma mia ragazzi eh no perché perché è stata assorbita da da la zai ah la zai fa schifo però eh ma la zai è buona la zai perché no a me non piace la birra giapponese a me non piace no la birra giapponese anche a me non fa impassire perché poi qui sapete che per le birre loro hanno tirato via un enzime che non mi ricordo il nome perché i giapponesi hanno un problema che che appena bevano delle birre straniere o alcoli frutta stranieri praticamente queste enzime che c'è anche presente sono questi alcolici super alcolici diventano rossi come si chiamano di gatte ma ma rossi rossi ma rossi fuoco ma loro praticamente hanno studiato hanno studiato una birra che è un po' più dolciastra con questo enzime che gli toglie questo impatto estetico a me la birra la birra fa proprio schifo quella giapponese cioè proprio l'ho assaggiata non mi piace proprio ma il sake invece si beve caldo o freddo o a temperatura l'ambiente bisogna vedere che allora perché gli stranieri giustamente parlano di sake in Giappone è venduto molto il soccio quello ho preso eh no quello bisogna vedere perché quello può essere servito sia a freddo bisogna vedere quello che hai comprato può essere servito anche freddo eh loro lo utilizzano infatti spesso a freddo a me piace freddo piace piace molto allora la temperatura ambiente fa schifo non sa di nulla no a caldo a me piace caldo a me piace caldo perché sicuramente no ma io ho sentito là mi hanno detto che addirittura lo scaldano sì bisogna vedere quale perché ci sono alcuni che siccome scaldando di come si chiama di dare un profumo e degli aromi vengono fuori invece ci sono quelli che vanno serviti assolutamente freddi col ghiaccio addirittura loro ripigliano perché lì a me piace mi piacciono molto che poi sono distillati di riso di patata eccetera eccetera riso riso questo mi sono a dire di riso ma bisogna vedere anche nel riso c'è sia quello caldo che fa ha ha infatti ce l'ho lì l'ho fatto assaggiare un paio di amici ma no io quello che mi porto per gli amici italiani porto quello da servire freddo da mettere in frigo e quello piace a tutti gli italiani che l'ho fatto provare prima o poi aprirò il whisky a capodanno apro il whisky no il whisky il whisky teoricamente dovrebbe essere buono il whisky giapponese quello si beh è il migliore al mondo hanno detto così dicono poi non sono un amante whisky e coca minchia come rovinare la coca cola guardate un attimo ho letto adesso sul sito visto che c'era l'apo ne ho approfittato sono andato sul sito di l'apo se è il sito che gestisce l'apo di cui l'apo è direttore quindi l'interista punto it sulle esclusive c'è l'intervista a giornalista ben jacobs ah sì quello là che ha quello dice le parole di amanda stivley mettono fine alla voce su piff l'inter risposta personalmente ho sempre detto la stessa cosa sulla vicenda piff ha sondato l'inter i colloqui vanno avanti da più di un anno originariamente hanno guardato agli investimenti opportunistici come minoranza masuring è andato in un'altra direzione le parti si sono incontrati a settembre ma le trattative non sono mai state in fase avanzate e l'idea che un'acquisizione un'acquisizione fosse tra le tra poche settimane ad ottobre o che potesse essere effettuata entro la fine dell'anno è fantasiosa vabbè niente di nuovo mi hanno infatti bastava ragionare vabbè ma tanto poi magari qualcuno che ancora è convinto ti dirà che ben Jacobs non parla per piff e piff non smentisce quindi è ancora tutto aperto perché purtroppo fin quando non leggono piff ha detto non ci credono no ma il discorso scusate se ritorno su piff però no no ma però il discorso è interessante cioè voglio dire Jacobs è molto vicino al discorso piff no quindi qualcosa ne sa esprimersi in questo modo non sta dicendo che comunque sia è tramontato tutto no no però sta dicendo che entro fine anno è una cosa fantasiosa ma sì dai è come quando ti dicono abbiamo preso quel calciatore no all'anno prossimo dai cioè alla fine sì cioè io mi auguro che prima o poi finisca questa storia su youtube della gara a chi ce l'ha più lungo perché non se ne può più lui lui dice come limonare con una donna poi andare al bar e dire che l'hai scopata la stessa cosa esatto esatto tu mi dici quando ci avrai il primo appuntamento domani no qualcosa c'è stato qualcosa c'è stato c'è stato cioè ragazzi a me la cosa la cosa che mi preoccupa che sono le 2.15 ci sono 38 persone ancora ma domani è domenica domani è domenica ah cazzo è vero non ci avevo pensato cioè domani oggi è domenica oggi è domenica diciamo però che fa quanti di voi quanti di voi vanno a messa eh cazzo sono pronta ad uscire anche io adesso vado a fare un giro per la città vabbè ma ti risponderei non devo andare in piena cioè il signore è dentro di me cazzo ti vuoi rispondere anche quello allora detta così lo nomino le funzioni no 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 aspettate un attimo e qua ci vuole il bar il signore è dentro di te hai detto quale signore attenzione vuoi dire è da tanto tempo che non faccio i bar eh infatti qua ragazzi bar 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 io avrei tanto cancello cancello la live non è un problema no ti preoccupare ho già scaricato la live no comunque che palle questa nazionale quest'anno ci hanno distrutto le balle le nazionali eh sì e anche i calciatori De Vrij infortunato De Vrij infortunato anche lui sono tutti infortunati sono quattro infortunati sì ma mentre gli altri no no non quattro perché eh Vidal è stato è stato affermato dall'allenatore che non ha nulla Sanchez gioca e noi abbiamo Zeko e De Vrij adesso guarda l'unico l'unico che secondo me potrebbe giocare Sensi è Bastogna anche Bastogna è vero che Bastogna ha lasciato il vetiro sì però però aspetta stiamo parlando di un affaticamento ragazzi ma vi rendete conto che piuttosto di giocare Sensi ha messo incinta quella cagna è femmina è femmina meno male oggi hanno ufficializzato sui social che partorirà una femmina eh bene così così comprano i croccantini quelli per junior quelli per i gatti no i pupi i pupi ma basta cioè veramente io ma tu pensa se era un altro maschio un altro calciatore ma no ma sembrano come quei ragazzini che non no ragazzi sembrano come quei ragazzini che non vanno a scuola perché fanno un sacco di assenze Sensi è la stessa cosa cioè veramente ma non si può licenziare per giusta causa ste schifezze boh è veramente assurdo no perché lui ci denuncerebbe per mobbing magari fanno una domanda a Paolo Paolo lo volete Sensi? ma si mi serve ci serve proprio ci serve lo scambiamo con Rabiot vi diamo Rabiot così non è un problema almeno almeno risparmiamo qualcosa sull'ingaggio dai ci teniamo Sensi dai non si non si non si non si non si ma lo volete il toro lo volete scambiamolo lo farei subito questo scambio lo so tanto argentino per argentino mi volete male ma è la passione di Luigi lo sappiamo bene lui mastica solo l'inglese e l'argentino lui è guarda guarda per assurdo per assurdo io scambierei no è un madrelingua argentino ma io scambierei Lautaro Martínez pure con Caio Gheorghe che non so nemmeno chi cazzo è lo scambiere pure con quello c'è a zero senza poter sicure decisamente ok io vi lascio ragazzi così mi potete insultare mentre me ne va no 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 guarda l'unico copo che mi viene difficile da insultare sei sempre stato rispettoso e lui insulta anche la mamma figura se io insulto mia madre quando mi chiama mia madre allora sappi questo mia madre è gobba ma di quelle brutte no allora di quelle brutte 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 allora un'estate andiamo a mare da lei a trovarla scopriamo in due regioni differenti allora io arrivo con la Martina piccola mia figlia gli porto in regalo il grembiule dell'Inter e gli dico mamma se vuoi che faccio entrare Martina in casa ti devi mettere il grembiule perché ti devo fare la foto allora mia madre si è messa il grembiule gli ho fatto la foto e poi quando mi squilla il cellulare mi esce fuori la foto di mia madre con il grembiule dell'Inter immaginate quanto sono merda io dentro nell'anno a un anno al compleanno gli ho mandato ho fatto arrivare un pacco dall'Inter Store perché io compro sull'Inter Store e non a prezzi modici dall'Inter Store gli ho fatto arrivare la maglia dell'Inter con il nome Rosalba dietro e c'era a casa la maglia la usa per andare a fare la spesa secondo me la usa come sto finale per pulire non può perché se no io quando scendo se non vedo la maglia in ottime condizioni non gli faccio vedere Martina è un ricatto no ma io non sono un pezzo di merda fondamentalmente no 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 assolutamente povera madre va bene ma lei non è da meno quest'estate mi ha fatto trovare in camera da letto la Madonna dietro la Madonna c'era il piatto della Juventus ovviamente sono sparite grande grazie sono sparite entrambe le icone cioè sia vabbè però la Madonna poteva essere l'ex allenatore così così è uscita così è uscita Armando Madonna così è uscita la bestemmia la bestemmia sì il piatto vuol dire il piatto della Juve è tutto un magna magna sì sì no ma sembrava un altalino capito cioè ho detto mamma che cazzo mi ha messo il pro memoria per le bestemmie no poi ci ha pensato Martina fa sparire tutto ecco vabbè tu ricordati che noi l'anno scorso siamo andati avanti con una persona che andavo dalla Madonnina tutte le domeniche sì infatti poi che brutta fine ha fatto infatti che fine ha fatto è crollata la Madonnina cioè eh ma pure lui è crollato lui è sparito lui è sparito vabbè va bene lasciamo andare polvo ciao buon seguimento grazie grazie ciao a presto ciao io voglio parlare con io voglio parlare con Damian Damian l'orsetto un gommoso cosa vuoi sapere cosa vuoi dobbiamo sapere dobbiamo sapere qualcosa di te cioè con le 2.22 l'altro giorno mia figlia aveva detto papà ho trovato una ricetta per fare gli orsetti gommosi e mi sei venuto in mente tu e anche ha detto non lascia perdere questa ricetta non si può fare cioè che ho avuto dei brutti ricordi con gli orsetti gommosi dai Damian raccontaci in questo periodo qua dai ma cosa vuoi sapere la tua vita sessuale come va lavoro 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 ragazzi solo lavoro adesso niente figa Damian niente figa proprio niente no però inizia a far freddo quindi ti si raccorta facci capire la cadenza la cadenza della figa perché hai detto proprio niente no quando è stato l'ultima volta ma saranno anche fatti miei no no tu lo sai lo sai che quando sali da buon latillover ma io non ho firmato nessun contratto ma lo sai te la prendi ma mica ci devi dire i nomi e cognomi devi però una volta che sali in live su Inter4Page sali una volta ogni morte di Papa dai quella è l'ultima volta il Papa non è morto voglio dire dicelo qual'è stato l'ultima volta eh è passato tempo attenzione che si arrugginisce il pistone lo chiamavano Damiano attrezzo in mano attenzione e che cazzo è il piano B? il piano B no il piano B il piano B è la porta del retro intende a lui anche volendo no tu la tua porta del retro no 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 ma insomma l'ultima volta che hai cucciato il biscotto davanti o dietro che sia spiegaci no è ufficiale ha detto di sì del piano B ufficiale ragazzi gli piace prenderlo è una cosa che capita fai un montaggio con gli piace prenderlo e il signore è dentro di me come ha detto il doc è fatta la nuova sigla la nuova sigla di Interpolpeso gli piace prenderlo e il signore è dentro del doc voi continuate a dire queste cose in realtà dimostrate che siete degli omosessuali latenti ma infatti guarda fino a prova contraria fino a prova contraria quello che c'è l'immagine di Popia Damiano tu dovresti Damiano tu dovresti ascoltare nel nel gruppo degli abbonati come fanno bene i trans brasiliani il doc Giulio ma guarda una cosa spettacolare sono signori io non ho altro ho finito vostro onore voglio dire di cosa stiamo parlando quello che non sapete del doc che dopo che dopo che finisce di fare il parcheggiatore va a fare il trans su Viale Novara a Lupin a Corso Buenos Aires a San Milano posso parlare di una cosa seria poi non lo dovremmo fare inizio live e poi mi sono dimenticato ecco fa la fine no no questa è seria davvero vi chiedo un favore oggi con l'interclub di Parabita abbiamo fatto un'iniziativa bello quando parla si spiega bene ma non ti mutare però no sto facendo una cosa seria abbiamo fatto con l'interclub di Parabita un'iniziativa nel sociale come spesso facciamo e come fanno molti interclub abbiamo presentato un libro che è molto interessante non vi sto chiedendo di comprare il libro però se voi andate sul canale dell'interclub di Parabita cercate il canale interclub Parabita ho pubblicato questa sera l'intera presentazione del libro è un libro molto interessante perché è un romanzo finisce male perché parla di un femminicidio però è un romanzo che nasce durante una partita dell'Inter a San Siro quindi chi l'ha scritto? l'ha scritto uno scrittore qui locale l'interista doc che si chiama Sandro Mottura io vi invito a seguire la presentazione tanto non si non si deve comprare niente come si intitola come si chiama sto libro? aspetta non lo so neanche mi mando la locantina aspetta via dai cavolo è una cosa seria è una cosa seria ho capito ma non ti ricordi via le mani no perché c'ho un dubbio via le mani dagli occhi pensavo via le mani e via il dito al culo mi confondo sempre con giù le mani dagli occhi infatti stavo facendo una figura di merda oggi con la citazione del film di esatto di negramaro le mani dagli occhi infatti finisce infatti nel libro c'è parla pure del concerto di negramaro è interessante il concerto di chi? di negramaro sono contro gli stranieri ciao rivederci buonasera ma il negramaro è anche un vino tesoro mio però non sono contro gli extracomunitari me ne vado il vino il negramaro è buono quindi vi chiedo cortesemente cercate interclub parabita e se avete una mezz'oretta di tempo seguitemi la presentazione che è molto interessante ok e far riflettere su tutte cose ma scusa ma i proventi del libro vanno alla famiglia della ragazza uccisa cazzo ne so non sto vendendo nessun libro non sto vendendo nessun libro sto soltanto dicendo facendo vedere le iniziative del sociale che fa l'Interclub gli è appena arrivato un sms per un acquisto ma ho capito però non lo vendo nemmeno su amazon voglio dire al massimo vi metto in contatto con lo scrittore se lo fai in audio libro lo compro non lo so non ti so chiedo se c'è in audio libro però è veramente interessante come come vai a vedere l'iniziativa è bella il libro ok però poi bisogna dare un seguito alle cose se no ma quello ci penserai lo vedi vedi che vedi che avete dei problemi al sud e lo dico è errone intanto intanto voglio vedere perché ti ho detto se lo vendessi io il libro c'era già pure il link di amazon per comprare però voglio dire siccome non lo vendo io il libro ma noi come Interclub abbiamo fatto soltanto ospitato questa presentazione quindi organizzato la presentazione del libro l'abbiamo messa l'abbiamo messa sul canale quindi siccome è un canale piccolo però è una cosa interessante insomma il canale si chiama proprio Inter Parabita Interclub Parabita Interclub questa è la cosa la dovevo fare prima però adesso avrà già avrà già avrà già il link di amazon tu lo compri il libro? sì sì adesso lo compro ma anche perché c'è il link sicuramente l'avrà già messo in amazon non c'è il link adesso lo faccio io il business col libro ecco no ma no appunto per quello dico che vabbè come cazzo lo compri se non c'è neanche il link ma non so se c'è non so se c'è ma lo cerco c'è ha pubblicizzato una cosa ma lui ha pubblicizzato l'iniziativa non il libro bravo in giro brava 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 è la giusta io sto morto cioè andate a vedere la presentazione e poi basta basta perché lui in fondo ha pubblicizzato il canale dell'interclub arabita non il libro grande comunque si trova su ebay è falso è usato ebay è un'efficatura ebay uno scam totale sei falso come giuda no lo sto cercando no si trova su ebay in realtà c'è la copertina ma dentro è vuoto c'è dentro il mattone è tipo no secondo me non scherziamo queste cose non scherziamo perché veramente è una cosa seria non scherziamo perché non siamo in campagna scusa un attimo ma se io compro il libro me lo faccio leggere e poi lo rimetto in vendita vale uguale che cazzo ne so io a me su ebay è probabile io non sono riuscito a comprarlo oggi perché l'abbiamo venduto però blind blind quale libro perché non si è ancora capito via dagli occhi via dagli occhi via le mani dagli occhi è vero come la canzone via le mani dagli occhi senti ma insieme al libro l'autore salvatore alontullo Sandrum no Sandro Mottura Sandro Mottura 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 cercandolo su internet l'ho trovato su ebay io ho capito solo che devo andare su internet e scrivere salvatore aranzulla e andare a cercare no tu devi andare sul canale dell'interclub parabita e succhiarti e succhiarti mezz'ora di presentazione di libro e non rompio le palle ma ci sei anche tu nella presentazione io sto facendo le riprese quindi non ci sono ecco ecco c'era il magna magna sto riprendendo io basta vabbè il canale dell'interclub parabita lo gestisco io quindi se qualcuno di parabita sta guardando la live in questo momento lui ci riesce a sponsorizzare bene le cose andiamo a dormire va che è meglio è meglio comunque ripeto interclub parabita sì via le mani dal culo giusto guarda che è una storia seria e poi a me è affascinato già solo la presentazione come arrivava questa ragazza allo stadio è veramente bello a me che faccio la stessa fine è probabile no blind non c'è pericolo c'è il seguito del libro blind anche perché io anche se le levo le mani dagli occhi non vedo comunque ma blind a limite più che stare spalle allo stadio non te capita a limite blind c'è la stagione 2 facciamo capito oddio andiamo a dormire che è meglio andiamo a dormire che è meglio e comunque intersalernitana siamo allo stadio io e la blind facciamo la live con il libro via le mani dagli occhi con la blind spalle allo stadio via le mani dalle spalle grazie ho già chiamato l'inter di farmi mettere una poltroncina al contrario ragazzi io già me lo immagino la blind che alza le braccia e urla gol mentre girata girata di spalle è quello che vuole fare sto stronzo se io in quel momento non guardo la partita ma faccio il video alla blind che dice gol girata di spalle dai che se ci va dai che se ci va di lusso e riesco ad andare in tribuna magari stiamo accanto al principe allora sì allora sì devo una cosa ma tu non puoi parlarci blind col principe ah vero no ma scusa aspetta aspetta ma io sì Damian no no aspetta c'è un problema semantico qua allora blind non può parlarci perché non ho capito chi è sordo e chi è cieco allora questa è un po' una freddura perché non è arrivata subito Simone no no è ovvio dopo un po' è rio vabbè andiamo a termine è stato bello così è stato bello anche perché io ho ancora da commentare un commento ma lo devo fare in back quindi vabbè allora ragazzi ragazzi è stato bello se volete domani sera siamo sempre qui su Inter for Passion domani mattina probabilmente uscirà sul canale soltanto l'intervista che abbiamo fatto all'apo quindi potete rivederla tranquillamente da domani sarà fissa sul canale e nulla se volete domani siamo sempre qua buonanotte a tutti ragazzi ci vediamo domani e Juve Merda e Juve Merda come sempre nei secoli dei secoli amici grazie a tutti